E siamo ritornati di nuovo dopo quel brutto, diciamo lockdown, ma sono disperazioni totali Siamo ritornati online di nuovo, speriamo questa volta di restarci per sempre Purtroppo i problemi qua stanno mendando, non ci posso fare niente Ultimamente mi da sempre errore 505, non so neanche che cacchio sia questo errore 505 sinceramente Però me lo da spesso e quindi me lo devo tenere, che cosa devo fare? Si bloccherà? Sono dolori? Speriamo che non si blocchi più allora, dai Vediamo quante persone siete, allora Olè, cosa è successo? Niente Sono detto errore 505, maledetto E tempestato di odio che mi fa chiudere la live stream, tipo oh mi dispiace Sai, è come se all'improvviso dicesse, oh guarda, mi hai rotto le palle Non ti faccio più connettere, basta Ti trongo la live, così faccio ridere a Cristian e tutti gli altri Uniscite a noi su Mario Kart No, siete già entrati! Ma siete maledetti veramente, non mi avete neanche aspettato Torniamo dalle meraviglie Philips 150cc, Philips Youtube Race, dai Speriamo che non si blocchi più, veramente perché mi sta venendo Ah ok, non c'è nessuno, ok, vabbè Mi metto nei vigliacchi Eh, mi saluti? Sì, Nitro Fox Gameplay Ti saluto di nuovo, carissimo Sei ritornato? Allora facciamo una cosa Eh, dai, iniziamo il torneo Anche perché è inutile fare altre gare Cioè, togliamocelo subito dalle scatole più che altro Philips 93, eccolo qua Che ho solito Non vincerò nessuna gara, però sinceramente così, dai Voglio cambiare e cambierò assolutamente Il lead del torneo lo trovate nei dettagli RECAPA CHANNEL Ciao, benvenuto anche a te, carissimo RECAPA Benvenuto in questa Speriamo che non si blocchi live streaming Ormai la chiamerò così Perché non sono più live streaming Sono frustrazione e basta Allora, mettiamo la Fiammoto, dai Con questa sì che riuscirà a vincere tutte le gare Però aspetta Adesso sì Sì, dai Così è perfetto Come crossing Che non ci sta un calchio Però vabbè Ce la facciamo accettare C'è il mushroom man Grandissimo C'è anche Eeeh Guardate quanti sono Tutti Bene, bene, bene Dai 9, 10 partecipanti Nella prima gara C'è anche lo stickman Eccolo là È messo laterale L'hanno isolato Poverino Sarà sicuramente in quarantena per il covid Ok, va bene Siamo 10 partecipanti 10 su 12 Eeeh Vabbè Non lo so Yoshi Scusa, sono andato nei maledetti No, Luca Cattagirone Maledetto Tembestato di maledetti Sono andato lì No, ma no Ma no Questa pista Non mi piace questa pista Allora Chi c'è con me? Mushroom Man Monique Sun Dojusi Armi e Simon Ok Contro Luke Christian Yoshi E Daniel Stickman Ok Altri due nei maledetti E poi saremo completi Prima corsa Prima vittoria Ragazzi Farò la prima vittoria Così mi partirò subito In destra nel torneo Cosa che non era mai successa Praticamente Nell'ultimo mesetto Partenza buona Immediatamente Mi è andata alla prima posizione Ovviamente ci sarà Una grandissima spalla Di Mushroom Man Che mi aiuterà A vincere questo torneo Mi aiuterà Con tutta la sua forza E se qualcuno Mi attaccherà Con tutto il suo corpo Si metterà davanti Pur di non farmi colpire Perché lui è Mushroom Man Lui fa parte Nella mia team Dei vigliacchi Praticamente No, dai Ma come cacchi hanno fatto A colpirmi? Impossibile È praticamente impossibile Colpirmi in una cosa così Sembra quasi Che abbia un il mirino Il mirino puntato Addosso su di me Mi hanno colpito Con una banana Neanche con un guscio verde Con una banana Aiuto Morte celebrare Davanti di me Va bene Niente Ho riguadagnato di nuovo Fino alla fantastica Quarta posizione Dai che stiamo recuperando tutto Terza posizione Dai che ci siamo Grandissimo Recupero tutto Dall'ottava fino alla terza Dall'ottava fino alla terza È ottimo veramente È veramente ottimo Ah No E che casino Avevo superato No, Cristian mi brucerà Cristian mi farà la pelle Cristian mi farà Mi farà ferro il fuoco Mi ha mancato Mi ha mancato Mi ha mancato Cristian Lo scarsone internazionale Mi ha mancato Adesso cercare di prendermi giusto Mi ha mancato in tutti i modi possibili Immaginabili Bene Ma sono per ora solo terzo È veramente un casino Spero che a questo punto Spero che a questo punto arrivi un guscio blu L'unico modo magari Per poter cercare di vincere questa gara Perché Yoshitale ha preso il largo Yoshitale è praticamente scappato via Nelle tenebre È scappato via Lui in prima posizione A questo punto finire in un podio Sarà veramente positivo Ma devo assolutamente garantirmelo Devo assolutamente arrivare Alla fine di questa cacchia di gara Senza morire Guscio blu che sta arrivando Guscio rosso che sta arrivando Guscio blu Perfetto E allora sì No è per me Che palle Era per me Che palle veramente Ma sono ancora terzo Dai Sono ancora terzo In granibili davvero Mi stanno cercando di togliere La posizione col piede di porco Porco cane Guardate Con Ixan con tutte le forze E nella mia squadra Mi attacca C'è qualcosa che non va Sicuramente avranno Comprato i maledetti Con quattro spiccioli Il fantasmino di Kasper Adesso Possendo un po' meglio Perché non mi attaccheranno Sicuramente Non mi possono Mango Sfiorare di attaccare Sono per ora In terza posizione Manca veramente poco Al fine di questa gara La terza posizione Va bene Va benissimo Va benissimo Va assolutamente bene Per inizio La terza posizione Va assolutamente bene Terza posizione Dai Ci sta Jayle Williams A long time no see I work on Jay Williams Thank you very much For following my streaming And thank you very much For enjoying my live streaming And thank you very much For leaving me a like Assolutamente Yoshi ha vinto Chris ha arrivato a seconda Fripp ha arrivato a terzo Monixan ha arrivato a quarto Mash è arrivato a quinto Army è arrivata a sesta Poi ci sono Simon che sono arrivati Un po' mi dietro Con lo stick Ma praticamente Nell'ultima posizione Di classifica Ehm Va bene Dai Terza posizione E non mi dà l'errore Qua E non me lo dà l'errore È pazzesco Ho bloccato Ma mi dà l'errore Stronzissimo Ah ok Si è ripreso Va bene Non me lo aspettavo neanche io Stavo parlando da solo Quindi ok va bene Meno male che non ho detto Niente di scongio Perché stava partendo Un bestemmione Da capogiro Meno male che mi sono trattenuto Dai Meno male che ripresa la live Sennò veramente Sarei finito Nel trash Più assoluto Totale Quarta posizione Meno male che ripartita Grazie a Dio E meno male che me ne sono accorti Appena in demo Perché stava partendo Qualche scmadonamento Da capogiro Quarta posizione Nonostante questo Sono ancora a quarto Dai Non è male Guscio blu Guscio blu che sta arrivando È proprio quello che ci voleva Per guadagnare qualche cacchio di posizione Il primo è stato colpito Ziyoshi Superato Conquistata la quarta posizione Ottimo Ottimo Cerchiamo a questo punto Di avvicinarci a Simon e Christian E Yoshi Marietto 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 Muori Oh colpito Yoshi Ma continua ad andare alla stessa velocità Ma dai Ma che cacchio è Yoshi Ha una connessione veramente Da strapparsi i capelli L'ho colpito due volte di fila Ma va avanti lo stesso Dai Yoshi Ma fatti la DSL Maledetto Maledetto Tempesta Oh colpito Yoshi Andiamo il colpo di grazia Porca miseria Fermato da Yoshi Porco cane 300 volte colpito E ancora è nel pollo Non ci posso credere Odioso Yoshi Terza posizione Superato Ancora Yoshi Che mi ha superato Ma non è possibile Ma che è Ancora Yoshi Tare che lì davanti a me Dopo tutte le volte che è stato colpito Non ci credo neanche io Non ci voglio credere È incredibile È vero È una guerra veramente Brutta 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 Stare davanti a lui Ce la possiamo assolutamente fare Attenzione Qua terza posizione Ottimo Altra terza posizione Fantastico Un buon inizio Devo dire E Yoshi Superata Ambiamente Oh Puoi banare Quelli che non No no Noi facciamo giocare tutti Carissimo Nitro Non banna assolutamente Nessuno Ma è Me lo voro Come siete arrivati ottavi No una volta È arrivato ottavo Cristina ha vinto Simon è arrivato secondo Dai Come inizio Non c'è male 3 3 2 2 3 posti Come si 2 terzi posti di fila Non è assolutamente male Io odio sto gioco Superato Mascia alla fine Eh Maledetto Perché si è fermato Ok 12 partecipanti Wow Siamo praticamente al massimo Io mi ricordo ragazzi Angate Nitro Carissimo Melomoro Luca Yoshi Di lasciare like Lo ricordo a tutti Cristina vabbè L'avrà sicuramente fatto Mi raccomando Nitro Lascia il like Simon Livimi a like Anche te Monixan Lascia il like Mi raccomando Jade e William Livimi a like Mi raccomando ragazzi Fate il vostro dovere E non fate i tirchi di like Perché verrete puniti Con tante bastonate Bastonate pesanti Ok 12 partecipanti Nel frattempo i via Chi stanno vingendo Come giusto che sia Abbondantemente Infatti hanno la corona in destra I maledetti sono un po' lì A soffrire A tenersi belli stretti Una posizione che secondo me Non gli si addice Però dai Noi siamo i più forti Abbiettivamente i via Chi sono più forti Aspetta che si liberi un bosto Ah Perché vuole giocare Ah ecco perché Non l'avevo capito Peccato Peccato che tu sia arrivato tardi Carissimo nitro però Attenzione No 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 Tanucchino Che è diventato una tanucchina Quando pare Coco È nuova Benissimo Anche a te Julian Welcome Anche a te Sarebbe Julian Bene 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 Ci sono tre persone in più oggi In questa live streaming Mi fa piacere Benvenuti a tutti ragazzi Mi raccomando Se volete potete iscrivermi E seguirmi Tutte le volte che volete Cappero Ogni volta che mi devo soffrire Il naso Prima Ci voleva dai Esattamente Sono stato punito Per la mia leggerezza Nella partenza Mi hanno colpito a sangue Ultima posizione Sarai il comeback della vita Sì dai Voglio fare il comeback della vita Voglio fare il comeback dei miracoli Sono in settima posizione Coco Ha ucciso qualcuno Bravissima Coco Coco Chanel Sicuramente Brava Coco No Potevo prendere la scrociatoia Invece Ningo Ho fatto una semisata Ucciso Christian Uccisa Coco E conquistata la quarta posizione Tanuchino superato Terza posizione Di nuovo al podio Sono di nuovo al podio Coco Mi se ne fa davanti Coco coquetta Uccisa Coco Involondariamente Però non volevo farlo Mi è partito il tasto Carissimo Tanuchino davanti di me Tanuchino maledetto Tanuchino cercherò di prendere Per poco Yoshi è caduto Yoshi è caduto E conquistata Indubblicamente La seconda posizione Con Mascio in prima Mascio sta vincendo la gara Ma Clash è caduto Prima posizione No Per pochissimo Mi ha colpito Qualcuno è morto Fantastico Sono di nuovo In seconda In seconda Con Simon Schugen In prima posizione Incredibile Davvero Gara fantastica Gara fantastica Veramente Gara veramente Da capo G Poledetto Mi ha colpito col boomerang Coco Coco Chanel La devo bruciare Mi brucia tutti In effetti Bruciati tutti ancora Che casino che sta succedendo Ma voglio assolutamente arrivare al podio Ce la posso assolutamente fare Se non mi colpiscono più È assolutamente fattibile Assolutamente fattibile Va bene Boost preso Sono addirittura Nella Quinta Quinta posizione Si potrebbe ancora fare Si potrebbe ancora fare Ma dovevo prendere almeno Due power up Si potrebbe fare Attenzione funghettino Funghettoso Arrivato No Che pole Vabbè Mi sono salvato Ma mi devo condividere Mi sa di una triste Purtroppo Sesta posizione Ah che pepalle Vabbè Dai B59 game Purtroppo non sento niente La vita è bellissima In che signi Che significa Non senti niente Ah è sordo Ok B59 game È diventato sordo Mi dispiace carissimo B Spero che un giorno Recupererei la vista La vista L'ho detto A questo punto Ah brutta gara Brutta gara Ma siamo arrivati in sesto Gara scandalosa Hai ragione Tanti capologimenti di fronte Dalla dodicesima Alla prima E alla fine sesto Vabbè Diciamo la via di mezzo Beh è brutta una gara È stata brutta Ragazzi Ragazzi Io a questo punto vi dico Che siamo messi Un po' così Così nella classifica Se hai visto il messaggio Puoi scrivere in chat Ah Ok Ciao B59 Benvenuto E mi Mi dispiace Tanto Per la Tua Sordità Non capisco Perché non mi riesco a sentire Tutti si può ancora fare Peggio Non è mica Vabbè vabbè Non è mica Marte di Grasso Good luck Phillips and Yoshi No Good luck Phillips Ma Yoshi no Yoshi non gli devi augurare Buona fortuna Perché Yoshi già è forte così Gli auguri la buona fortuna Gomez Gomez Ok Tanu Bestia Fantastico Poi ci sono Poi ci sono Poi ci sono Mi dispiace Non dovrò vedere la live In versione sordo muto Ok Ehm I'm sorry I'm sorry No No Porca miseria Per scrivere un messaggio A B59 Ma che sono Idiota Il dodicesimo Partenza Veramente Da strapparsi i capelli Tutti In modo vergognoso E dai Porco cane Ma mi colpite pure Quando sono ultimo Ma siete veramente Vergognosi Mettetevi in punizione Da solo i ragazzi Perché Ve lo giuro Non mi sembra corretta Una cosa del genere Non mi sembra corretta Una comportamentazione Del genere Diciamolo così Alla che cosa non Dai che siamo in ottava Dai che qualcosina Schifoso Riusciamo a recuperare Dai prendiamo La scrociatore di murales Prendiamo la scrociatore di murales Vediamo se riusciamo A prenderla bene Sembra di sì Sembra di sì Infatti siamo In ottava posizione Qualcosina abbiamo recuperato Retirino fantastico Con un boost Di mega galattico E siamo in settimo Che come onix Sanda avanti di me Che sta praticamente Frondeggiando un Simon Tutto armato di banane E armato anche Sfinedendi Di pallottoli infuocati Per fortuna Si sono uccisi tra di loro E ho consentito Di guadagnare La quinta posizione Armi è stata distrutta Quarta posizione A pieno piano Come le formichine Come le formichine Sto venendo su Sto guadagnando Centimetri su centimetri E sono in quarta posizione Con Luke In terza posizione Che è davanti di me Luke maledetto Tempestato di Luke Luke al cattagerone Che ha fatto un errore Si è dato davanti un albero E ho conquistato agevolmente La terza posizione Con Luke Che adesso è stato ucciso Definitivamente Da qualcosa di indefinito Ovvero che sarebbe Il mio Guscio Stanno volando Addirittura Bombe maledette Vai Questa gara si potrebbe Assolutamente finire il podio Non è assolutamente male Vediamo cosa mi dà il gioco Funghettini funghettosi Dai Funghettini sono buoni Funghettini sono assolutamente buoni Possiamo concludere Ottimamente Egregiamente Questa gara nel podio La possiamo assolutamente finire così Dertiamo di attaccare Tutti dietro Vediamo Se abbiamo ucciso qualcuno Attenzione C'è Tano Bestia davanti di me I miei occhi sono diminuiti i celidi I miei occhi stanno sanguinando Vendetta Vediamo se riusciamo a battere Tano Bestia Vediamo se ci riusciamo No Il Guscio Ti prego Come finire la gara Portuccone Ha fatto perdere una posizione E porca miseria Ma sempre davanti al traguardo Sti Gusci Avevo il podio Praticamente nelle mie mani L'ho stritolato troppo E ho perso Vabbè Lasciamo perdere Lasciamo perdere Vabbè Triste fine Ma che cosa ci facciamo Siamo abituati a questo Mi ricordi di Pippa E' davvero divertenti Vabbè Nove Ma l'ho lanciato Ma l'ha detto Christian Vedo Si sono attivate due live Ma dai Il gioco mi sta prendendo in giro Stigma Batti nell'altra live Non è questa Quella ufficiale Ma ecco perché Non lo sto neanche vedendo Cioè non è possibile Il gioco mi prende in giro Dai Ma com'è possibile Una cosa del genere Mi ha attivato due live Vabbè Lasciamo perdere Io non voglio neanche commentare Che cacchio ha fatto il gioco Cioè Non ci sto credendo C'ho due live attive Tutte sullo stesso contenuto Vabbè Lasciamo perdere Potete confermare Ragazzi Sto vedendo due live attive Che Stickman è nell'altra chat Voi siete in questa Vabbè Cacchio maledetto Questo tempestato di odio Che mi ha preso Ma sono ancora ottavo Vabbè Comunque ragazzi Veramente assurdo Non è mai capitata Mai capitata una cosa Fatima No Mi hanno fregato tutti i power up Mi hanno lasciato un fungo Ingordi maledetti Vabbè niente Dimentichiamoci Di questo Di questa orrenda Scena che abbiamo visto E cerchiamo di andare avanti Siamo addirittura Quasi nel podio Aiuto Non mi brucia Prego Ok No Vaffanculo Luke Tutti Sono eliminato Un viola Guarda Guarda che maledetto Tanuchino Guarda che maledetto E cosa mi da Un guscio Mi da E' patetico Questo gioco Finale in vero simile E' patetico Veramente Decima posizione Tanuchino ci ha provato A farmi il colpo di grazia Il colpo della fatality Non è già riuscito Non è già riuscito Attenzione Si fermano Si fermano apposta Si fermano apposta Mi prenderà schiaffi Un giorno di questi Veramente ve lo giuro Mi prenderà Sciaffate in faccia Sciaffate in faccia Sciaffate in faccia Stavo per mancare Il power up No Non è anche i cusci rossi Ci faccio il proto Con questi cusci Porca miseria Odioso Cristian Mi ha mangiato Con la sua pianta Si è fermato No Odietto Volentissimo Cristian E' odioso Stai perdendo il torneo Ma non te ne frega niente Vuoi solo farmi scolare Come un porco Questo è quello Che ti interessa Undicesima posizione Tutti i power up Di Mario Demende 8 Un dato Demende Che ci stava provando A colpirmi Colpa l'altro Bill Vediamo quando recuperiamo Siamo per ora Nella dementissima Decima posizione Banane Levitata per miracolo Stella Stellazza Forse possiamo arrivare A piangere sangue Vediamo se mi da due power up Va bene Sto andando veramente da schifo Va bene dai Power up Funghettosi Funghettini funghettosi Arrivati Dove possiamo arrivare Non lo so Non di certo in una buona posizione Ma ci provo Ci provo assolutamente Ci provo assolutamente Arrivare nella tristissima Settima posizione Niente da fare Che schifo di gare Che sto facendo Yoshi ha vinto Ma che cosa Diciamo a fare Ha già 21 punti Di distacco Vergogna Allora carissimo Stickman Non posso leggere i tuoi messaggi Perché tu sei nell'altra live A quanto pare il gioco Si è divertita Crearne due E No No la devo cangellare Obiettivamente Perché mi sta facendo perdere Ecco Mi sta facendo perdere cose Come 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 la cangello Come la cangello Non posso neanche cangellarla Addirittura Super Mario Bros 35 live Vabbè Io Sai che ti dico Io Ci Ci perdo Speranza Non ci credo neanche A quello che sto vedendo Nella live principale Siamo ok Però l'altra 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 Per quale cacchio Quale motivo Vabbè ragazzi Continuate a messaggiare Tranquili Io Devo capire Che cacchio è successo Non capisco Perché sono attive Due live Non capisco E perché l'altra Si è chiamata Super Mario 35 No vabbè Misteri della fede Andando Facciamo una cosa Salviamola Ok Tutte le lavori Di Mario Kart 8 Ok Mentre l'altra Che praticamente Non so Per quale Quale motivo È stata creata Non so Quale demone L'abbia creata Ma è stata creata Due Io Continuo Sto meno difficoltando Non riesco a trovare L'altra live Non lo riesco a trovare Vabbè Pace Bene ragazzi No Qua devo vincere Qua devo vincere Non mi ero neanche accorto Partenza Veramente siderale E conquistate immediatamente La seconda posizione Vediamo se riusciamo A portare a casa Questa vittoria Questa è la pista preferita Nessuno mi potrà battere Nessuno riuscirà a vincere Perché qua sono il campione Del torneo assolutamente Terza posizione Seconda posizione Ancora che cerco di spingermi Cristian che mi ha superato Attenzione Benissimo Bust preso E mi sono portato Nella prima posizione Con un tizio che mi ha dato Una bella spallata Armi Armi che mi ha dato una spallata Risuperato il nuovo verso l'interno E ci siamo ancora Armi che mi fa un ruota Ruota bestiale Guardate come mi spingio Guardate come mi sta strattonando Wallen Gray Provare di vincere questa gara Ma non può niente con un Philips Di questa gara E il Philips è sembraticamente Impattibile in questa gara Sperato No Guscio Blu che sta arrivando Che non è per me Che non è per me Perfetto Non è per me È per i maledetti Allora mandiamo a muovo No No Guscio maledetto Maledetto Tembestato come la morte Che stava cercando Di farmi la barba Che stava cercando Di soffocarmi Con suo iria Irreverente E rispettoso Prima posizione Ottimo Guadagnato un sacco di secondi Ne comprometti Ne seconda classificato Devo semplicemente Vandenere Non devo fare nessun errore Ma non ho nessuna Protezione a meno per ora Adesso si dai Adesso la protezione Adesso sono protetto Praticamente Fino all'osso Fino al midollo Bene 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 Attacco Che giustamente Non può concretizzarsi Perché mi sta attaccando Un vigliacco E non Quindi una della mia squadra Non mi può attaccare Prima posizione Manca praticamente No Sta arrivando No guardate Guardate cosa sta arrivando Guardate cosa sta arrivando Sta arrivando la morte celebrale Sta arrivando la morte celebrale Mi ha colpito Ma sono ancora primo Dai Sono ancora primo Non mi ha superato nessuno Posso portarla a casa E non mi dare le monete Gioco demente Porca miseria Me lo vuole fare perdere Con tutta la forza Ma sono ancora primo Il secondo è Simon E Simon non mi può attaccare Perfetto Simon non mi può attaccare E allora secondo me Questa gara è più vinda che altro È molto più vinda che altro Siamo a mezzo giro alla fine Manca veramente poco Siamo quasi praticamente Alla finitura di questa gara Mangano praticamente Solo due curve Solo due curve E la gara sarà vinta Solo due misere curve Schifose Attenzione Volo dell'angelo Manca veramente poco Simon è sempre in seconda posizione Ma in una distanza siderale Non può nulla Simon non può nulla Per superarmi E allora possiamo dirlo Vittore della gara Prima posizione Finalmente la prima Vittoria di questo torneo Secondo è arrivato Simon E MASHOMAN è arrivato terzo Grandissima MASHOMAN Ha anche podio per lui Bravo MASHOMAN Mi ha fatto guandigliare Un sacco di punti Nei confronti di Yoshi E soprattutto Nei confronti di Cristian Maledetto Yoshi è arrivato quarto Ah no Attenzione Ho fatto un errore Il MASHOMAN È arrivato quinto Mi sa quale gara Stavo guardando Ok E' andata bene Fantastico Fantastico Veramente E a questo punto Cercherò di cancellare Quella live Maledetti Grande MASHOMAN Grande vittoria Cristian a questo punto Non l'ho neanche vista Nella classifica finale Mi sa che sarà arrivato Tipo accompagnato Da Gli altri Che stava piangendo In una curva Poverino Perché non riusciva a fare le curve Ovviamente non è la pista Ecco qua Ecco qua Questa live Che non c'entra un gacchio Come faccio a eliminarla? Perché si è creata Questa live Super Mario Bros 35? Dai È uno scherzo del destino O che non me ne avvia Neanche una O che me ne avvia Tipo due di fila Che gioco cretino Niva live Assolutamente Gratulazione Fid Grazie Grazie Yoshi Dai Me la fa eliminare Questa coccia di live? Non me la fa eliminare? Oh sì Me la fa eliminare Ah lo deve eliminare Quella Super Mario Bros 35 Ok E non me la fa No Aiuto Non ci credo Cioè Non me la fa eliminare Vabbè Ragazzi Questa è la live ufficiale La live ufficiale Non è Super Mario Bros 35 Lo dica anche lo stick Stickman Stickman Se vuoi che io ti leghi i messaggi Se vuoi partecipare con noi Cambia live Non sono su Super Mario Bros 35 Ma sono su Mario Kart 8 Deluxe Italia Live Switch Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è assolutamente nessuno Son Goku Switch Switch Live streaming Non sono lì Stigma Te lo ripeto di nuovo Perché lo so che ci sei Ok ma se nella live Sbagliata O meglio La live è quella Perché il contenuto è sempre uguale Il nome è sbagliato E non c'è nessuno Va Non dico bello che le tondo Allora Sesta posizione Dai Poi mi spiegherà un giorno Youtube Perché crea queste cagate Meravigliose Meravigliose Strappa lacrime Ok Pallup preso No Che cretino Cretino No No Maledetto In tutti i modi Mi sono cercato a difendermi Ma mi ha preso comunque Guardate quando mi hanno superato Yoshi Gli occhi tutti rossi Ucciso Yoshi No Boomerang Maledetto Guardate come mi ha sferato la faccia Dammi Dammelo Ma che vale Due ore per darmi il power up Dai Ma fa proprio pena questo gioco Fa pena veramente a sangue Settima posizione Nessun power up preso Aiuto Qualcuno di avanti di me È praticamente morta Con la testa mozzata Quarta Brutta immagine Quarta posizione Voliamo nel cielo blu Funghettino Vabbè dai Me l'ha dato Un power up decente Funghettino Funghettoso è arrivato E mi consente di restare in quarta posizione Con Goku davanti di me Luke Goku Si con dentro La terza posizione Vediamo chi riuscirà Sicuramente No Yoshi Che è passato davanti Ok Un dizio a 200 km orari C'è Reyk Davanti di me Reyk ha mirato un bus Spettacolare E mi consente di fiancheggiare Luke No No Mori Maledetto Luke E' bastato di sangue Ha cercato di farmi la pelle Luke è ancora davanti Copito Luke E' conquistato la buonissima No Errore Aiuto No No Non mi dovete superare Non mi dovete superare Mi strangolerà la vita No Mi farà male Questo mi farà male Wow Un guscio che mi ha volato in faccia Attenzione Si può assolutamente arrivare a terzi Si può arrivare a terzi Podio Terza posizione Un'altra grandissima gara Fantastica Mi trovate anche su Instagram Ok Non ti preoccupare Te andremo a cercare E se mi colpisce Mario Cartotto Ti cercherò E ti appenderò Assolutamente Sono crashato È crashato Marco Cristia Va bene Va bene Va bene Va bene Il crash triste di Cristia Poi pure il fulmine Dai Ottimo Ottimo Veramente Sto guadagnando Punti in una classifica mondiale Voglio solo vedere Che ha vinto Ha vinto Da quello che mi sembra Di aver capito Classifica dopo due anni Vabbè Ci sta assolutamente Ha vinto Masho Non voglio uscire Oh Ha vinto Masho Man E io sono arrivato a terzo Poi Army è arrivata a seconda Dai Ottimo Ottimo Siamo È questa Esatto È questa È questa Non so perché YouTube mi prende in giro Ma ha creato due live strane Non condarci Philips Praticamente Mi ha creato Due live Due live uguali Ma con nomi diversi Ovviamente Questo è quello ufficiale Quella è una cosa Creata Per farmi sclerare male Ecco Ecco Questo per me è 35 Non riesco ad eliminarla Porca miseria Mi sta facendo gridare sangue Che cosa strana La prima volta che mi capita Una cosa triste del genere Ok Infatti Maggetta è carissimo stigma Se ti va Lascia il like Ma lascia il like In questa live No in quella Faresti un grande piacere Carissimo stigma internazionale Ah Cocco e Crash Ah Ora ho capito Ora ho capito Mi sembrava strano Partenza buona Partenza fantastica E mi ha venuto Una buona seconda posizione Allora Vediamo se riusciamo a superare La versione All'interno Colpito una cacchio Di No Rovinata subito La gara immediatamente Neanche il tempo Eh mi spingono pure Nell'erba Maledetti Tanti di odio Mashman ha colpito Un dizio a caso Bravo Mashman Sei uno dei maledetti Sei bravissima Colpire gente maledetta Nell'erba Nell'erba Funghettino 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 Arrivati Posso accelerare un pochettino Posso sperare di guadagnare Qualche posizione Qualche misura posizione Delinquente Dai ho guadagnato Qualcosina Ma niente di che Sono per ora Nella Buona Mamma si fa per dire Quarta posizione Incredibile davvero Quasi il podio Terza posizione Era il podio ufficiale No Lucky mi ha risuperato di nuovo E' stato ristrutto La Simon Armi No 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 Porco cane Non ci Ma dai Aveva il podio Il nuovo colpito a sangue Undicesimo Cambia anche dalla vita Massi Dai Funghettino dorato Dai Proprio quello che ci voleva Lì Funghettino dorato Mi consentirà di superare Almeno Coco Chanel Giusto Superiamo Coco Coco Cocchetta Coco Chanelina Ok Mi stanno fregando i power up I maledetti Un altro bellissimo Guscio dorato Guardate quindi Ne sto superando Sto facendo praticamente Una strage davanti di me Accelerazione fino a libero simile Mi sono portato incredibilmente Fino in sesta posizione Con Mushomane Che è una pianta maligna Davanti di me Che ha colpito un altro tizio Non ho capito chi sia Ma sono ancora sesto Sono ancora sesto Armi Rai K E in questo momento Davanti di me Super atteggiamente Mi sono portato in guinda Un giro dalla fine Quinto E un giro dalla fine Manco un giro Si può assolutamente Pensare di avere nel podio E vincere un po' Difficile Ma il podio è fattibile Il podio è assolutamente Fattibile Il podio si può assolutamente Fare Attenzione Quinta posizione Rai K Ha fatto superare Egregiamente Ma ha preso un boost Ma Simon Un po' distante Con Mushomane Che si contenta nel podio Stanno litigando a morte Per contenderselo Guscio rosso Attenzione C'è un guscio rosso Guscio rosso per lui Guscio rosso per gli altri Acceleriamo Acceleriamo Come i pazzi Siamo però in terza L'abbiamo conquistata La terza posizione Alla fine di questa gara Si può addirittura arrivare nel podio Si può addirittura fare Si può fare arrivare Sei pronti Attenzione No Porco cane Sono a quarto Attenzione Posso ancora farcela Vediamo Terza posizione No Porca miseria Chi è quel delinquente Che mi ha superato Due centimetri al traguardo Quarto Vabbè dai È andata bene Simon No Simon Shug Maledetto È lui che mi ha superato La mandia al traguardo E mi ha fregato il podio Va bene Guscio rosso Guscio rosso Becco Cacchio sta dicendo Il muro internazionale Basta Io odio sto gioco Beh È difficile Non odiare sto gioco Vabbè Sono terzo Nella classifica mondiale Vabbè dai Si può vincere il torneo Ma Marco Devi smegarmi Come fai a ottenere Guscio rosso Più stare in quarta posizione Miracolo dei miracoli Te lo spiegherà Appena Ti farà vedere tutti I hackeramenti Che c'ha lui Allora Cambiate live Io vedo ancora Tre spettatori La Tre spettatori Toglietevi da lì Super Mario Bro's 35 Non è la live Ufficiale Ragazzi Toglietevi da lì E andate in quella Dove c'è scritto Super Mario Mario Carto del relax Non è quello ufficiale Ne vedo tre Ragazzi Toglietevi da lì E venite tutti qua Perché non posso leggere I messaggi là Sinceramente Non ce la faccio E non me li fa leggere Più che altro Via Siamo partiti Buona partenza Anche io città Mi hanno fatto una buona Abbiamo tenuto la prima Con armi che lo segue Praticamente con un fucile E non mi spingete Nell'erba Maledetti Ogni volta che mi spingono Nell'erba Con la forza Proprio mi ci buttano Come se fossi un baccalà Decima posizione Siamo ad attaccare qualcuno A caso Il prescelto Per essere distrutto Sei tu Dai Sì Ho preso qualcuno Ma non so chi sia Quindi vabbè Lasciamo perdere Ogni volta la mia vista Fa praticamente Ci lega Non ha posizione C'è carissimo Chi c'è davanti Fammi prendere Power up Niente Ok Un funghettino Demende Funghettino Demendino Che mi consente di arrivare No Prendere la banana Di mascio Porca miseria Mi ci sono buttato Addosso alla banana Me la sono praticamente Ingoiata Tutta Di nuovo decimo Non è una buona gara Questa assolutamente Cerchiamo di recuperare tutto Cerchiamo di prendere A questo punto Andiamo Il volo Il volo No Gira Gira No Power up Niente Nessun power up Che palle Ma sono sesto Dai Sono sesto Stavo finendo No Stavo finendo Nell'altra cartina Geogra Due volte colpito Ma porco cane No No Tanucchino Che cerca di bruciarmi Praticamente Come se fosse Una cotoletta Non a posizione Dai che cerchiamo di prendere la scorciatoia Da qui Prese grechiamente E ci siamo portati No Mi bruciare Stella Fosforescente No Uomo di Cernoby Aiuto Per pochissimo Non mi ha bruciato per poco Dai che forse arriviamo nel podio Dai che si può fare No No Volbero Gira Non gira Non gira Sono a conaquinto Non so neanche io come Lo sto manderendo col sangue Realmente Mi hanno fatto Anche Cristian Se ne è cavata male Mi fa il piacere che Cristian Ha abitato sangue più di me Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Vediamo dove arriviamo Vediamo quando lo superiamo Settimo È andata male Ma perché ci sono Infatti non lo so Non l'ho capito Devo scrivere Al sordo muto Bishmona 9 Gamer Che questa Era l'ufficiale Ok Questa è quella ufficiale Carissimo Bishmona 9 Gamer L'altra L'altra L'ha Creata L'altra È Stata Creata Da Youtube Non lo so Jerry Un personaggio di Crescent Nitrocut Ok Secondo Luca è arrivato secondo Mi sto mettendo a piangere Sangue Perché è arrivato secondo Non ci crede neanche lui Ora tipo andrà a festeggiare A dire Sono arrivato secondo Tutti quanti Tutti i suoi compagni Eee Grande Grandissimo Racconta Mascio Cosa deve raccontare Questa ve la devo Ah dai raccontaci Stavo facendo Il salto finale Con tre banane intorno Salmo mi viene addosso E mi colpisce Facendomi Care nel vuoto Mentre avevo tre banane intorno Vabbè Dai I bug da gioco Sono veramente vergognosi La simbica generale Vede Yoshi primo Ovviamente Ha 109 punti Secondo Un Simon Sugar Ha 89 punti Philip segue 82 Poi abbiamo Christian Che praticamente Non si sa Ma con dov'è Probabilmente Non sta neanche più Giocando Talmente si è frustrato Dai Decima corsa 3 2 1 Via Partenza siderale E conquistate Minatamente Il podio In terza posizione Podio momentaneo Yoshi terrile Avanti di me Yoshi terrile Distrutto E conquistata La seconda posizione Armi Dammi il boost Veniamo a seminare il boost Armi Ah si è allontanata Proprio sufficientemente Per non darmi il boost Peccato Venamente Ma sono ancora terzo Sono ancora terzo No Ma che pa Ho un funghettino Funghettoso Dai Qualcosina Lo posso recuperare di nuovo Ma sono precipitato Nella tristissima Decima posizione Che palla Veramente Non adesso Un altro funghettino Funghettoso Il gioco Mi da praticamente Il power up Di mezzo Ma dai Ma una gara Praticamente schifosa Non me lo sarebbe aspettato Un epilogo così triste Darmi un ballottolo Ti prego Si il ballottolo Mi ha dato Oh Shock è arrivato Forse posso Garnere qualcosina E portarmi Ottava posizione Faffancappero Veramente Dai Sta proprio sotto C'è il video Eeeh Umbrella man Ciao Benvenuto carissimo Benvenuto in questa live streaming Mi chiamo Francesco Lo so Ti ho accettato la richiesta D'amicizia Praticamente subito Appena accesa la luce Grazie mille per avermi L'inviata E grazie mille per essere Iscritto Ovviamente se tu l'hai fatto E grazie per avermi Lasciate like Alex Umbrella man Mi raccomando Carissimo Alex Alexis Lasciami like Mi raccomando E non te ne prenderai Allora Cosa dici come previsto Mashomen Ok Pensavo che se ne Ok L'avevo visto voare Mi ero un pochettino Romaricato Invece qui Sono stato tutto il tempo Tenso E poi un guscioroso Mi colpisce Il caso sesto Yoshi accetta La mia richiesta D'amicizia Morale della favola Se non siete smolate Yoshi ha praticamente Vinto il torneo Ma questo me lo sappiamo Dovrebbe esplodere la switch A questo punto Per non vincere il torneo Yoshi Da quando abbiamo No Vette la corona in testa Maledetti L'hanno praticamente Ruppata Con la forza Strappandola via Con i denti Ce l'hanno strappata Ottava posizione Bananine e bananone prese Vediamo che riusciamo a colpire Vediamo che riusciamo All'assassinare Stiamo colpendo noi Più che altro Siamo in settima C'è Luca davanti di noi Luca Cattagirone Che sta affronteggiando Cristian E l'ha superato Guarda Guarda che stavo per cadere Che gioco demente Ma meno male Che non mi ha fatto cadere Dammi il boost Mi date un boost Ma non è possibile Ne ho quattro davanti Non mi ha dato anche un boost Che gioco bagato Che gioco assento Praticamente Dai che sono quinto Con una protezione Praticamente Impenetrabile Non dovrebbero Praticamente neanche sfiorarmi La testa Sono terzo Non ci credo neanche io Con armi che è prima Incredibile armi Sta per vincere La sua prima gara Di questo Noo Errore Errore No ma come hanno fatto a colpirmi Li uccido tutti Li uccido tutti Porco cane Trenta volte colpiti Non è possibile Dai È una frustrazione vivente Sono ultimo Ma porco cane Ero due passi dal primo Ma come si fa a essere Non mi bruciate Vi prego Un settimo Che cazzo Guarda Tanuchino Guarda cosa si ferma Bestia C'è una bestia immonda Vai a cacare Lo fa a posto Ogni volta a fermarsi Non è possibile Quasi quasi lo blocca Tanuchino Non lo faccio giocare più Mi porterò la gesta A casa Lo farò prendere a mancare All'altro Un giorno di questo Tanuchino Tutti che hanno i funghetti Roll Tutti 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 C'erano i durati Io ho quello Demende Pure Stella Sì Tutti Paura per i migliori Ma vaffanca Proteggimo Lo fa a posto Il gioco Spostati Cristian Ti prenderò A mancare All'altro Se sono disposti Sono ottavo Aiuto Stella Stellazza Prendetemi se ci riuscite Ma non ce la farete sicuramente Perché sono Dai 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 che si può arrivare al podio Il podio non è affatto imbattibile Ah mi ha vinto Sciocca è arrivato Sciocca è arrivato Io l'era sì Io l'era sì Io l'ho Si può assolutamente Arrivare al podio Si può assolutamente fare Mashman davanti di me Mashman sicuramente riuscirà a prendere il podio Il quarto posto può andare bene Il quarto posto può andare assolutamente bene Mashman è praticamente insuperabile È quello che sto capendo Mashman Dov'è Mashman? Isperito Mashman E mi devo accontentare Della buonissima Attenzione No per poco Lo stavo per prendere Io cittare davanti al traguardo Ananzera C'è il game over Io come me si comprerà la PS5 Io no purtroppo Ma ti do Suficialmente il benvenuto Se ti va carissimo game over Puoi lasciare il like Così come ricordo Mi farebbe un grande piacere Carissimo Ananzerrof Mi è venuto un dubbio C'è una curiosità Perché ti chiami Con l'account Ananzerrof Sarei curioso È il tuo nome Qualche tuo parente Che si chiama così Cioè perché Ananzerrof Sarei curioso di saperlo Carissimo game over Se ti va spiegalo Siamo tutti pendenti Dalle tue labbra Anzi Dalle tue tanti Più che altro Io ho comprato il PC Nuovo E non ho più soldi Perché Mashman Ha desolato i suoi soldi Comprando un PC Ah a questo punto Dici le caratteristiche Tecnici del tuo PC Carissimo Mashman Se ti va di condividerle Io già scredito con Crash 4 Figurati Con Mario Demand 8 Deluxe Ti fa Ti fa Arrivare il Messia Davanti alla porta Ti fa prendere la bastonante Oggi è una giornata triste No Che è successo Carissimo Ombrella Man Sarei curioso di saperlo Ah il nome Anazerrof Su nome Ok Quindi di che nazionalità Sei carissimo Sarei curioso di saperlo Non me lo ricordo mica Va bene Dalla Q Dalla Q Is here Dalla Q Welcome Frenzy Frenzy è entrato Ecco Grattissimo Frenzy è con noi L'account era Nitro Fox Gameplay Benvenuto a Nitro Fox Gameplay Ho ricevuto una chiesa amicizia La accetterò subito dopo questa gara Lo farò 2 1 Via Siamo partiti Buonissima partenza E abbiamo mantenuto Una buonissima posizione A podio con Yoshi Che mi sta appartimento Fiancheggiando Non me lo sbrattere in faccia Guardate che busto spettacolare E mi sono portato in prima posizione Ottimo veramente Una cura fantastica Ma fatemi finire di essere felice però Maledetti Neanche il tempo di gioire veramente Che mi colpi Banana maledetta Giustamente Lasciata da qualche demone Satanasso No Mashman Ti ho visto Non uccidermi Ok Mashman non mi uccide Cosa dico Mashman non mi uccide No Ti prego Ti prego Non mi colpire Ok perfetto Mi hai evitato Mi hai evitato Mi hai evitato Mi ecco ovviamente Davanti di me ci sono I due tedeschi Simon e Donald Q Che sono rispettivamente In quinta In quarta posizione Addirittura adesso Christian In quinta posizione Che ha perso una posizione Con fronte dei due tedeschi Che l'hanno superato I due alemanici Che sono portati per ora No Sono dietro Sono dietro Ok Hanno perso posizione I due alemanici Ci sono Yoshi E Christian Davanti di me Army Ha perso tempo Christian Maledetto No Che culo che ha Christian Ma sono No Mi ha preso con l'ultima fiamma Che pale Sono sesto Di nuovo ho perso No Ma va a cacare Mi ha fatto perdere il power up Brutta 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 veramente Triste Triste Epilogo Per ora Sono sesto Ma manco ancora un cino Ma c'è meno ucciso Tra l'avanti al traguardo Guarda Guarda come mi ha fangheggiato No Mi dovevo prendere per forza Ma porca miseria Non è possibile Gioco demente Sono undicesimo Porco cane No Tipo timido Volevo darmi un bacetto affettuoso Meno male che mi sono spostato Dai Falla bene questa curva Falla veramente Da farmi strappare io No Ho un altro power up mancato Ma che palle Veramente Sono ottavo No Chi è che mi sta girando attorno Dai via Dai via bestia Porco cane Di nuovo che mi ha colpito Quella mogola Bestia in mondo Di tanuchino Tutto Stella Oh Almeno shock è arrivato Per quei deficienti Nei maledetti Così almeno posso spionare Di guadagnare qualcosa Alla fine Vediamo quando ne guadagno Ok Settimo No Settimo Va bene Ah sì Ora sendo Perfetto E' ritornato l'udito Sarà andato sicuramente Ad Ambrifo Il nostro B519 game E ci sta sendendo di nuovo Ciao B Siamo qui Siamo con Se vuoi puoi scrivere A questo punto E' ritornato l'udito Felicità in casa B519 Bocca al lupo Da seconda a decimo La triste fine Di Luca Caltagirone Sto torneo non sta andando C'è Così così Dai Qualche podio Una sola vittoria E che ce l'avete con me ragazzi Io non so come Come Disillu Come Togliervi L'attenzione Da colpirmi in continuazione Non so perché ce l'avete con me Ma siete maledetti Fatemi giocare C'è lui Che sono equipaggiato Mannaggia Pippo E su Ambrifon Ambrifon non funzionante Ambrifon ti cambia la vita C'è praticamente Il primo mese gratis E poi devi dare tutti i soldi Della casa Praticamente per pagarlo Il primo mese gratis E poi Gli dai il portafoglio direttamente Se prendono quel cacchio Che vogliono Hyrule E per la sfortuna Di Mashioman E' uscita la pista Di un di idol Va bene Pista arcopadeno 3, 2, 1 Mashiosclerà sicuramente Vediamo se sclera Fino a dare la colpa a noi Se uno scarsone Red Hai messo le frasi Per Cortex Red Non sono riuscito Neanche a fare il video Carissimo Dei stick Ma perché Se così metterò Cortex No è uguale Puoi mettere quello che vuoi Casalmente poi mi mandi il link Delle frasi che vuoi Che ti inserisca Perché Non lo so Io non conosco Crash Potrei confondi Infatti l'altra volta Te l'ho messa Le frasi di Crash Di quei personaggi Che dicevi tu Però te l'ho messa In inglese Cioè Di personaggi in inglese Che secondo me Rendevano di più Dai perché Bridge c'è Più originale Maledetto Christian Che mi stava Spingendo nell'abisso Degli abissi Dai che sono settimo No Guardate che volo Stronzo che ho fatto Sono in ottava posizione Fammi prendere il volo Degli angeli E siamo in ottavo Dai Maledetto Con Christian Dammandim Che cosa cacchio è successo Christian No No Simon Sugar No Maledetto Maledetto Simon Ti andrò a prendere In Germania Te lo giuro Un giorno di questi Ti cercherò Per tutta la Germania Per quello che hai fatto Maledetto Tempestato di odio Dai Christian Lo uccidiamo A Christian Giusto Christian No Christian è andato Forreccendo di cermi Eppure lui No 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 Aiuto Che Vabbè No Guarda che cade Guarda che cade Ma sono decimo Che gara da schifo Veramente Armi ti prego Non prendermi Non prendermi Non mi ha preso Perché non l'ho neanche sfiorata Quindi non mi sono andato Mi vicino Simon Armi da male ancora La gara di Demendi Mi sta sembrando No Mi sto distogliendo Da queste posizioni schifose E la stella Alza Dai Questo almeno qualcuno Per qualche decimo Di seconda Non potrà Oh Tanochino Muori Con tutto il sangue Veramente L'ho ucciso Con la stella Fantastico Vai Tra la posizione Palottolo Bill Fantastico Il Palottolo Bill Proprio quello che ci voleva Per cercare di venire questa gara Per cercare di portarla a casa È un po' difficile Ma ci proverò Dai Cristian Ah per poco Lo devo prendere Sono quinto Sono quinto Attenzione Sto recuperando il mondo Sto recuperando tutto Sono terzo Attenzione Prima posizione Non ci credo neanche io Posso veramente vincere questa gara La posso veramente portare a casa Non è più un sogno Non è più un miraggio Sono veramente primo Ma devo mandare La devo sicuramente Mandare Questa garantissima Prima posizione Anche se mi cercheranno D'attaccare Mi cercheranno Di fare la pelle Maledetti Stati in lontano Stati in lontano Come la peste Sono ancora primo Non ci credo neanche io Manca veramente poco Alla fine di questa gara Si può assolutamente fare Sono praticamente Davanti al rettilino Finale Shock Nooo Che palle Ma che è successo Ma cosa cacchio è successo Cosa mi ha colpito Seconda posizione Non ho capito Che cacchio mi ha colpito E cosa mi ha colpito Perché stavo I miei occhi stavano luccicando Di felicità Non mi sono neanche accorto Cosa mi ha colpito Ma sono arrivato secondo Vabbè dai Non male Avevo la vittoria in bugno Andate a caccare tutti Leggiamo la classifica Della vergogna Non so più che fare Niente Armi ha vinto Ma c'è arrivato Ok beh Tanti punti guadagnati 114 Yoshi primo Simon Shugen Ok Secondo nella classifica generale Anche Simon è stato superato Adesso ci trovo Una richiesta di nemicizia Ti ho tolto la vittoria Ma dai È stato Yoshi Che mi ha colpito Monix San di nuovo Quante volte me la maddi Monix Strano Monix È creatura strana Monix San Circuito di Mario Dai Philips e te Te lo dico la prossima volta Passo una maniera Ma io non ti ho colpito Masho Dai Non puoi colpare a me Perché non ti ho neanche sfiorato Masho Non è che è meglio Io ti ho messo le frasi migliori Per il dedo Neocortex Ma non capisco perché Ogni gara c'è un fulmine Per noi È giusto così Cristian È giusto così Infatti Sono secondo nella classifica mondiale E tutto sommato Sta andando bene Dai Però quella la dovevo vincere Quella veramente L'avevo quasi vinta Ora mi dovete spiegare Perché Yoshitale È prima 150 punti Cioè È una cosa veramente vergognosa No Ti prego Tutto tranne quella pista Tutto tranne quella pista Tutto tranne Tu quella pista Perfetto Tutto tranne quella pista E quella pista Bene Primo è Yoshitano 50 Secondo Sono io A 114 Terzo Simon A 113 Quarta A 112 Tutti praticamente In un pazzoletto di terreno Per la seconda posizione La prima è quasi infattibile Odio questa pista Ma che dobbia fare Partenza veramente Meravigliosa È conquistata Meravigliosa È la prima Ma 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 Subito Attaccato Con un guscio rosso Vendato Miracolosamente Sono in terza Ora Le perderò tutte Non ti preoccupare Che le perderò tutte Le perderò tutte Ma ti sono quinto La gara dei gambe Piano 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 Non mi colpire con la banana Se no ti vengo a prendere La banana in faccia No Sto guardando in continuazione dietro Perché ho paura Ho sinceramente paura Che qualcuno mi possa colpire alle spalle Cosa che succede 99,99% dei casi In queste gare maledette Che cretino Poteva prendere il sprecciatore Ma niente Sono quinto Va bene No Ma dai Ma che palle Eh Decimo Bene Ma io che cosa dico a fare Ma perché Non ce niente sempre queste piste cretine Porca miseria Cioè E oddio Chi è quello davanti Ah Francesco Ok Francesco è davanti a me Bene Ma anche lui Se la sta cavando Male Anche lui Lo staranno Pestando per bene Come Come una Una racina Come una racina Come un'uva Ho detto in direttamente C'era una racina Allora Undicesimo Questo Chi è Allora Chi è questo demente Cortex Maledetto Ti sei fermata apposta Per coprirmi con la stella Lo fanno O me Lo fanno Tutta apposta I loro Fandasma Andate a caccare tutti Veramente Stella Stellazza Non posso fare niente Non posso fare niente Ogni volta che c'è questa gara Perdo punti E la scegliete sempre Io guarda Ti giuro un giorno Condatterò la Nintendo E la farò togliere Con la forza Questa gara Perché è veramente odiosa Non ha senso Non ha senso resistere E una gara demente E voi la scegliete sempre Più demente sono le gare E più la scegliete Che cacchio Guarda quello che mi sta attaccando Non va a attaccare Non va a attaccare E poi porca miseria Ogni volta Sembro io quello che perdo più posizioni Non è possibile Sono sempre io quello che perdo di più Sono sempre io quello che ci rimette il sangue Vabbè Siamo tornati di nuovo Per l'ennesima volta Sembra lag 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 Sta arrivando una canzone triste oramai Siamo ritornati Almeno lo spero Siamo ripartiti Dopo l'undicesima posizione Delle meraviglie Siamo ritornati di nuovo Sperando questa volta di restarci Vabbè dai Siamo di nuovo in live Meno male Meno male Meno male che questa volta Non mi ha fatto perdere la live Almeno Meglio dell'altra volta Siamo in settima posizione Gira 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 Maledetto Siamo in sesta Dai Ok Terza posizione Ottimo Ottimo veramente Dopo l'attristi in gara precedente Marshman colpì Ma io dico Ma che io Non lo vanno Oh Io ho fatto il sangue Proprio dritto Settima posizione No 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 Mi colpite Ti prego Ok Sono ottavo Ma Ma che cacchio di gara sono queste Veramente Io non ci sto capendo E Sterza Sterza Dove va Il cornicione Ma dai Ma che è sto Nel cornicione Se ne va Ma che gioco baggato è Cortex Fate superare Maledetto Cortex Prenderò Colpi di crash in testa Ok va bene Dai Sesta posizione Io Non l'ho superato Non l'ho superato Porca miseria Lo supererò Oh Accelerazione migliore Superato Cortex Agevolmente Dai Power up presi Pianda maledetta Mi ha ucciso Yoshi No Guscio blu che sta arrivato Povero maio Colpi di assassinato E sono per ora Dove sono Terzo Dai buono buono Sono terzo Sono terzo Prendo la scorciatoia Bellissima E mi porto Sempre terzo Vabbè Pensavo di meglio Finiamo questo punto Iniziamo l'ultimo giro Iniziamo l'ultimo giro Terza posizione Si può assolutamente Pensare di vincere una gara Ma è un po' difficile Secondo me Ma possiamo arrivare nel podio Arrivare nel podio Sarà tanta roba Sarà tanta roba Il primo classificato Non si riesce a capire Che cavolo è Ma non è Cristia Non è Cristia E che mi fa Sederare un grandissimo No No Ok Guscio blu Che sta arrivando Coppiamo dietro Aiuto Che pale Stella Stellazza Stella Stellazza Maledetta Stella Stellazza Maledetta Vediamo dove Mi fa finire Dai Sta andando bene Sta andando benino Avevo la protezione Ma porco cane Dai Ma che gioco è Avevo Avevo la protezione Il gioco Non è normale Yoshi lo supero Giusto? No Ho superato Yoshi Mamma mia Che fatica Questa gara Philips Carissimo Marco Sarti Benvenuto in questa live streaming Mi raccomando Lascia subito il like Immigriattamente Non devo perdere Oh Sto ritornando Vabbè Sto ritornato di nuovo Meno male Niente Un torneo difficile Sinceramente Ma perché siete maledetti Mi fermate apposta Fate la rettromarcia E a questo punto Mi mangio un biscotto Alla faccia vostra Vale Alla faccia vostra Mi fatti Mi fatti gridare No Ma come ho fatto questo Ne va al secondo Marco Sarti Lo sai che ti cancellerò Il messaggio Giusto? Ti ho cancellato Il messaggio Fringi prossimi Me ne sono accorto Sono tornato Umbra da me E tornato E spawnerò Con tutti i suoi like 124 120 Ma Cristian Come può essere Secondo Scusa Quanti punti ha Cristian? Questa gara Silingio Ottima partenza Yoshi che fa Perché invece C'è perdonato Subito Il parafango Prima posizione Yoshi Testa e testa Ko Yoshi Ma perché Mi dovete colpire Sembra la prima curva Maledetti Ma vergognatevi Di esistere Vabbè Io poi che mi accoppio Con la ruota Bellissima la ruota Dai Vai avanti Cankericard Non la posizione Vola Vola nel cielo Tempestato di sangue Nono Dai Dai che si può Recuperare tutto Dai Io sono fiducioso Finirò nel podio Anche questa gara Buttiamo cosa a caso Buttiamo gusci verdi Siamo i babbo natali Dei gusci verdi Vediamo quando abbiamo ucciso Va bene No Prego No Ok Meno male Meno male Perché Ci vedo Meno male Non riesco a vedere i nomi Vabbè comunque Un dizio maledetto Mi stava per uccidere Con la sua pianta assassina Sono in sesta posizione Posizione di centro classifica Tutti gli effetti Manteniamola Manteniamola Gary Come cacchio si chiama Sarà sicuramente Stigma Stigma davanti Stigma No Non mi devo mettere Non mi devo mettere davanti Lo stigma Non mi devo mettere davanti Lo stigma Perché non lo lancerà sicuro E non lo lancia Perché giustamente non mi vuole Vabbè Colpisci mi idiota Stigma E' la logico che mi colpisse Quindi vabbè Ma sono ancora quinto E quanti ce ne ha Ma che cacchio C'è praticamente la scorta Porco cane Non è possibile Non è possibile Che un essere umano Abbia 4 gocci Tutti in una volta Non è possibile E il gioco Ho fatto apposta È fatto apposta Settima posizione Quanti cacchio Ne aveva Impossibile questa cosa Veramente Vediamo quando riusciamo a guadagnare Settima posizione Podio Ciao Ciao veramente Forse riusciamo Mi c'entrano sempre Giustamente Mi c'entrano sempre Non a posizione Ottava posizione Forse qualcosina Si può fare Ma di sotto del podio Sicuramente Anche se dovesse andare di russo Secondo me Dai Power up Dammi un po' l'altro B Per favore Ma figurati se mi do un po' l'altro B Mi ha dato questo Mi ha dato questo Che buonissimo Mi ha dato questo Che fantastico Per favore Maledetto Sempre davanti al traguardo Maledetti Vediamo quando ne supero Che vaffancappero va Marco Sarti Già ho avuto una giornata del cacchio Sì Mi ha fatto le corna What Look Look Come hai potuto Oh Che sta leggendo la classifica mondiale Che cacchio Lo sta leggendo Se fa attaccati Con diversione Ho solo voglia Di attaccare voi Veramente il giorno Quando vi incontrerò Attaccarvi Appendervi al muro Veramente Diosi Diosi e maledetti Va bene Siete proprio Tembestati di odio Ragazzi Ovviamente Se vi va ragazzi Ve lo dico di nuovo Se vi va potete lasciare il like Ve lo metterò in sovra In pressione Così almeno Non ve lo dimenticherete Mi raccomando ragazzi Se vi va lasciate il like E gratis Non costa nulla E mi fa aumentare magari qualche like Magari arriviamo a vendi ragazzi Mi raccomando Non deludetemi Conto su di voi Conto sulla sua Conto sulla vostra forza interiore Di mettere like Ok va bene Pista scelta Mario Politana Va bene così In realtà la detesto con tutta la mia forza Però che ci posso fare Ce l'accettiamo comunque Leave a like Bravissimo Marco Cristian Ma chi richiamati Cristian Per favore Cristian Perché Mi confondo ogni volta Mi viene automatico a dire Marco Sarti Te lo giuro Giorno di questi ti richiamerò veramente Marco Sarti Mi sono detto il tuo nome vero Dai Immediatamente Ma porco cane maledetto Ora si che sto urlando Ma perché sembra la prima curva Sempre Ma neanche di una volta Sempre Ma porco cane Sempre A domanda non per cento Mi prendete la prima curva Questa è secondo me La gara della frustrazione Perché qui succede veramente di tutto Qui muoiono gente Muoiono civili Muoiono gente innocente Perché è una gara del cacchio È una pista stretta Voi scendenti che ti possono colpire Anche lanciati allo start Guarda 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 che non mi colpiva lo stesso Pazzesco No Guarda quanto è fiamme Aiuto Aiuto No Non mi colpire Non me lo buttare Non ci sto capendo niente Mi sta venendo l'ansia a giocare questa gara Te lo giuro Stavo qui da posizione Non Quarto Terzo Sì Vabbè Sto piangendo di felicità Non ci credo neanche io Sono terzo Certo Non chiede davanti di me Col cacchio Non mi fai niente Non mi fai un cacchio Ho la stella No 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 Davanti di me Cerchiamo di prenderci Non mi ruccidono Ho ucciso No 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 E mi sono portato in seconda posizione Ottimo veramente Cerchiamo questo punto di mandarella Col sangue E con l'onore Yoshi Tare davanti di me Yoshi Ha lanciato il guscio No Ok mi sono difeso Mi sono difeso bene E sono per ora In una buona seconda posizione Manca poco alla fine Spero che arrivi un guscio blu O spero che arrivi un fulmine Dai un fulmine o un guscio blu O un fulmine o un guscio blu Sarà ottimo comunque Mi farà vincere Guarda No Ma perché si è incandato il tasto Nel momento No Eh sì Va bene L'insalata fritta Sta arrivando il guscio blu Ma quando me tutta la gara è persa Quando me la gara è persa Ma sono secondo Dai che sono secondo Dai che la mantengo in questa seconda posizione Dai che la porta a casa No Mi ha superato Sai Moshug che mi ha superato Attenzione La posso portare a casa di nuovo La posso veramente portare a casa Seconda posizione Ottimo Seconda posizione La festeggio come se fosse una vittoria Veramente BC-97 è povero Va bene Filskart No Ah che BC-99 mi dice così Sto piangendo a veleno E di nuovo Seconda posizione Della classifica mondiale ottenuta Purtroppo se c'è Yoshi Non si può vincere Quindi il massimo No vi prego Non cegliete quella pista Mi metterò in ginocchio Veramente Mi metterò in ginocchio Non cegliete quella pista Di Baby Park Infatti ma ragazzi Vi metto di nuovo In sovraimpressione Mi raccomando Mi raccomando Non fatevelo scappare E lì A portata di mano Basta premere un semplice Click E il pollice Si illuminerà di immenso Si illuminerà di blu E i vostri occhi Piangeranno sangue Ve lo giuro Mi raccomando Liva like Anche a te Umbrella man Mi raccomando Sai come fare Umbrella man Giusto Carissimo Umbrella man Fili Non sei secondo Dai Sono secondo Allora ci sarà Un punto di distacco Da secondo Sicuramente Controliamo La classifica Generale Perché ero sicuro Di essere secondo Allora Io 142 Cristian 149 Ah Vabbè dai Non è infattibile Sono terzo Ma Per soli Sei punti Sette punti Dai Non è male Non è troppo Non è neanche poco Siamo alla diciadesima corsa Ottima partenza Subito immediatamente Portato Devante Yoshi Ruota Ruota Con Yoshi Veniamo Solo superiamo Verso l'interno No Perché il gioco Non mi da il boost Il gioco Non mi da il boost Non mi da niente Questo gioco Per aiutarmi A vincere qualche gara Niente Anzi Mi da un colpo Di zappa in destra Subito la prima curva E basta Cosa lo dico a fare Quarta posizione Bene C'è Yoshi Che lo controlliamo A distanza A questo punto Guarda E per Yoshi E per Yoshi Yoshi Si Colpito Yoshi Benissimo E conquistata la terza posizione Momentane Momentane Perché Colpito Donald Q Non so neanche io come Perché No No Ok va bene Sta andando bene Sta andando bene Presa la scocettoia E rimaniamo per ora Nella buonissima Seconda posizione Alla fine del primo giro Possiamo cercare di vincere questa gara Non è assolutamente infattibile Perché Samu Shugen E lui Davanti di me Ma ha una distanza veramente misera Una distanza veramente misera Che sta diminuendo In continuazione Sta sempre più scemando Sta diventando sempre sottile Lo svantaggio tra me E no E no E no Ma ha sempre Tutti questi Ok Uno ucciso al volo Fantastico Di nuovo l'ho conquistata la seconda Va bene va bene va bene va bene Va bene No tu prego non mi bruciare Guarda In tutti i modi Porto cane Ma che cacchio è 300 cose avevano per colpirmi Che palla veramente Mi posso riportare di nuovo in seconda Però Speriamo speriamo Si Addirittura vediamo Prima posizione Non ci credo neanche io Manco un giro dalla fine E sono primo Primo all'ultimo giro Si può assolutamente vincere questa gara Ma il gioco che cacchio mi dà Una moneta mi dà Una moneta mi dà Maledetto Non darmi le monete Perché così non mi posso difendere Ma neanche per scherzo Siamo praticamente Mezzo giro alla fine Manca mezzo giro alla fine Voglio vincere questa gara Voglio assolutamente portarla a casa Bomba Ottima difesa Ottima difesa Che mi ha dato il gioco La posso veramente portare a casa Distanza ridotta Dona Q è dietro di me Attenzione Dona Q Mi potrebbe fregare la vittoria Non devo fare nessun tipo un errore Non devo sbagliare No Porco cane con tutta la protezione Non è possibile Questo gioco è buggato Dai Mi ha fregato la vittoria Mi ha fregato la vittoria Ottavo Ma come da primo ottavo Ma come si fa ad arrivare da primo ottavo In una curva In una curva Porco cane Va Vi odierò a vita ragazzi Veramente Vi odierò a vita C'è poco da fare L'odio Come se niente fosse Tutto praticamente neutralizzato Ma poi guarda Il mistero di Dona Q Che da dietro di me Me lo trovo davanti Vabbè Io non ci sto capendo più niente Sicuramente Ma queste cose strane Succedono sempre Quando gioco io Dai Non c'è niente di male Maledetto B59 Sordo Lo chiameremo B59 Amplifon Va bene Dai La seconda posizione Non è tanto lontana 147 Attenzione Armi Si è portata Lui In seconda posizione Simon Ital 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 Che si è portata Vabbè dai Sono quinto Adesso Sono quinto Che palle Ce ne sono 24 Siamo alla diciannovesima Ne mancano Con questo 5 No Con questa 6 Dai Altra partenza Nello Brobrio Vediamo Se esce Esce da posizione Quinta posizione Dai Guardate quando Attenzione Seconda posizione Yoshi Italia Che mi ha messo Delle ruote davanti Yoshi maledetto Italia Seconda posizione Dai C'è Armi davanti di me Armi che si è portata In seconda posizione Della classifica mondiale Contro tutti i pronostici Possibili Immaginabili Si è portata in seconda Ma Yoshi che ancora Continua a mettermi le ruote davanti Continua a mettermi le ruote davanti Grandissima Armi Che mi stava sbattendo Il guccio No bomba No Guardala Guarda quella bomba maligna Ha cercato di prendermi Yoshi Maledetto Italia Per fortuna non mi ha preso In quel tempo Armi E ancora prima Vediamo se riusciamo Superata Superata Cerchiamo di mandarela Cerchiamo di portarla A casa Cerchiamo di portarla Con sangue Con la dignità Con assolutamente Qualsiasi Dignità possibile Immaginabile Siamo ancora primi Vediamo che Mushoman Incredibilmente E lui in seconda posizione In grandissimo Mascio nazionale Che è stato subito colpito Niente Ha perso subito La seconda posizione Va bene Come non detto Povero Mascio Maschetto Ovviamente Vittima di tutti I bullismi Di tutti i poveri Bambinetti Che lo tormentano A sangue Sono ingredibilmente Nella prima posizione La devo mantenere Mi stanno attaccando Giustamente Giustamente Mi attaccano pure Con sangue Manga Un giro alla fine Fatemela vingere Vi prego Sarà la seconda gara Il mio torneo Sarà la seconda vittoria Il mio torneo Speriamo di farcela Speriamo di finire Questa gara Con una vittoria Si può Tolto il power up Di difesa No Crettino Crettino ignorante Crettino deficiente Mi sono buttato La bomba davanti No La cazzatona L'ho fatta Ok no Mi hanno evitato Gui sci rossi Chi mi hanno evitato Non so per quale bug Miracoloso Manca veramente poco Siamo praticamente Davanti All'interno No No Presaggio di merda La puttana Realmente Ogni volta Ancora Guarda Ma perché Quanti ne avete Sono ancora primo Wow Vittoria della gara Prima posizione Non ci credevo neanche più Di vincere Ma ho vinto Ok Ho detto a parole Vambe A caso Ma sono riuscito A vincere Comunque Dai Ottima vittoria Contro Nonostante che sono stato colpito Due volte davanti al traguardo Miracolo Evidentemente avevo Un bandaggio Veramente siderale Nel confronto degli altri Che nonostante Essere stato colpito Ho vinto Vabbè Beh Se che conto è buono Mi segue Sembra come la formichetta Ora che devo dire Devo recuperare Nel confronto di Cristina Tutti si spostano Lo fanno passare Tipo come l'ambulanza Quando apre la sirena No Tutti si spostano Via Facciamo passare Lo scarsone Che lo facciamo vincere Ok Dai I partecipanti sono diminuiti Ma non importa Perché alla fine Il torneo Sta andando avanti Tanu Base Cominciamo Ok Ah siamo 9 Dai Siamo 9 Siamo ancora 9 Mangano 5 gara Alla fine con questa Nina C Monixan Benvenuto Non è possibile Dai 11 partecipanti Ma addirittura Pensavo che non l'hanno scelta Hanno 10 Leggiamo la classifica parziale 21 like Grandi ragazzi Continuate così con i like Ottimo Allora Vediamo Leggiamo 162 punti Armi 163 Cristian 166 Siamo tutti lì La seconda posizione Praticamente Assolutamente Fattibile Siamo tutti lì Siamo tutti In un vazzoletto di terreno Stiamo Dopo le battaglie Sì dai Dopo le battaglie Esatto E Non è tanto che non lo facevo Quindi le faremo sicuramente Sperando di arrivarci vivi Ci migliora alla fine Questa compresa Partenza meravigliosa E mandata la prima posizione Ah ecco Ho fatto due vittorie In questo torneo Dai Se riesco a fare Tutte le vittorie di fila Magari posso vingere il torneo Una cosa impossibile Ma la seconda posizione Ci tengo particolarmente Infatti Yoshi subito colpito Yoshi colpito E manderemo ancora la prima Quindi Yoshi perderà Sicuramente terreno Ha perso Sicuramente terreno Nei miei confronti E sono Sempre Primo Devo mandanerla Il gioco mi deve dare Le protezioni Speriamo che non mi da Gushy de Mendy Speriamo che non mi da Demendagini Ok Sei monete Guardate Cristian come mi seguo Guardate Cristian come mi annusa Praticamente Che è lì davanti E lì dietro Mi sta guardando Mi sta fissando Mi sta scoppiando Le ruote solo con gli occhi E laser Ma sono ancora primo Sono ancora primo Per ora mi sta facendo un buffo Ripeto per ora Perché tutto può succedere Tutto può accadere Qualsiasi cosa può succedere Filippo Sono andato 3 Subito attacco Maledetto Vigliacco Da parte di Cristian Svendato Svendato egregiamente Sono ancora primo Dammi la difesa Bella difesa ottenuta Fantastico Ancora Prima posizione Questo non mi può prendere Giustamente Perché è un guscio Buttato dai Vigliacchi Guardate Non c'è nessuno Dietro di me Nessuno E allora l'ultimo giro Verso la fine Sciocca è arrivato Nei maledetti Io allora sì Io allora sì Vittoria che si avvicina Sempre di più La vittoria praticamente Che la sto sfidando Con un dito Manca praticamente Mezzo giro alla fine La seconda vittoria di fila Sta arrivando Seconda vittoria di fila Aspettami che sono qui Aspettami che ti sto venendo A bussare la porta Apri la porta Perché sto arrivando Manca praticamente Poco di più Meno di mezzo giro alla fine Grande Siamo praticamente Davanti al rettilineo Finale E allora lo possiamo dire Di nuovo Con tutta certezza Vittoria dalla gara Prima posizione Terza vittoria del torneo Seconda vittoria di fila E secondo posto Nella classifica mondiale Acciuffato Proprio A quattro gare Dalla fine Ottimo veramente Ciao Monix Sal Benvenuto Mi raccomando Carissimo Monix Non dimenticarti Like Mi raccomando Cristian è arrivato terzo Incredibile Incredibile Ma sono secondo Nella classifica Mondiale Bene 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 Ottimo Veramente Proprio quello Che volevo Yoshi Italia È arrivato molto dietro Wow Yoshi Italia Ha perso Praticamente Un sacco di punti Ovviamente È irraggiungibile Il tempo Il torneo L'ha già vinto Però Dai Facciamoci un pensierino Facciamoci un piccolo pensierino Alla vittoria di questo torneo Perché Lo so che è impossibile Lo so che Grazie mille Carissimo Monix Grazie mille Ti ringrazio Lo so che è impossibile Vincere il torneo Ma Io ci provo Ci provo assolutamente Sono secondo Ho conquistato la seconda Yoshi è molto lontano È vero Ma secondino A fare gare così Si può fare Andiamo a che pista sceglie Dove vittoria consecutiva Questa è conoscendo Una volta ogni cent'anni Terza vittoria di fila Se fosse uscita Un'altra pista Sì ma questo è un po' Cattivo Bene Donald Kumulix Christian Tanno bestia Cattivo No 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 Ma dai Ma che Che significa Role di comunicazione Ti prendi Prego No Mi ha fatto saltare la gara Dai Stanno cadendo alle braccia a terra Veramente Non ci credo Non ci credo Dai Mi ha fatto saltare la gara Giai Un'unica Indispensabile Per sopravvivere Vabbè Mi ha recuperato dopo Allora Spero Spero Mi ha recuperato dopo Un pazzo Veramente Yoshi che sta vingendo Bene Seconda armi 12 seme cattivo Terzo Tanno bestia Quarto Christian Muori maledetto Metterò la cam su Christian Che scarso Che scarso Con Dina Eppure è caduto Sì Vabbè Guarda Prende gli smuggles Christian Che prende gli smuggles Lo stanno martoneando Sta facendo una fine peggiore Della mia Cambiamo telecamera Che sta diventando La disagio cam di Christian Andiamo sul Mushroom Man Che si è fermato Talmente Non ne può più di voi Yoshi Tal Primo Vediamo Seguiamo Yoshi Tal Vediamo Con una bellissima banana dietro Eccolo qua Con il suo sguardo sorride No È caduto Ma scusa Come ha fatto A riprendersi Yoshi Tal Dopo che cade Il mio secondo Si riprende Mistero di Yoshi Tal Vabbè Lasciamo perdere Come fa a cadere A riprendersi Subito Yoshi Tal Sfigato Allora Yoshi Tal Guarda che stronzo Yoshi Tal È stronzissimo Yoshi Tal Addirittura arriva Con la elettromace Però è strana Sta cosa Perché Yoshi Tal Io sinceramente Ti ho visto cadere Sei caduto E neanche due secondi Ti sei rimesso in vista Come fai Yoshi Tal Voglio sapere I tuoi trucchetti Voglio sapere Le tue cheat A questo punto Eccomi gente Marco Sart È stato ritornato Avevamo visto 21 like In realtà Sono ancora 20 Peccato veramente Qualcuno Fa mettere Nick Nick È con noi Dopo secoli Carissimo Nick È ritornato Ciao Carissimo Nick Mi raccomando Non dimenticarti Di lasciare like Carissima Ti sai che ti dico Te lo lascio apposta A questo punto Te lo metti Mela vista Tutto per te Carissimo Nick Se ti va Puoi partecipare Alle battaglie Perché con me Stiamo finendo il torneo Mangano 4 gare Praticamente O vuoi provare A fare qualche gara Per me va bene Comunque Ma Meglio che ti impegni Per il torneo Delle battaglie Perché sai Pensare tra poco Fino a quando Nick Divertiti Ben tornato Assolutamente Io ci torno in Giappone Io ho comito Brasil Brasil Fammi uscire La pista Che mi piace Sì No Va bene Mi piace comunque Dai Però se usciva quella Era gioia pure Invece non poteva essere Manca solo Naim Vero Naim è risparito Non so alcun tempo Non so il motivo Non so il perché Non lo so No Mi ha fatto perdere la gara Che palle Ha passato Dalla 29 22esima Buonanotte Carissima Danny Games 2 1 Via Siamo partiti Ottima partenza Mi ha fatto perdere una gara Il gioco Grazie Grazie mille Mi ha fatto passare direttamente Dalla 21esima Alla 22esima Quindi adesso la seconda posizione Divende un po' più difficile Ma Ci provo Ci provo assolutamente Nonostante Tutte le difficoltà Nel caso Il nuovo colpito Yoshi Nella stessa Minesima Curso Ante la gara di prima Incredibile ma vero Grande Grande veramente E sono No Mi ha tolto il power up Donal Q Che Sbottamento Di palle No 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 Non mi volete fare Lo sapevo Lo sapevo Guarda Monix Maledetto Monix Ma sei un traditore Però Cavo Fa posto Anche tu a prendermi Ti ho visto Con la coda Dell'occhio squercia Che mi ha cercato di prendere Palotto di idiota Bene 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 Allora possiamo Degliare un casino Possiamo Cristian Distruggilo No Non lo può distruggere Ok Sono quinto Non mi fa prendere Anche un power up Questo gioco demente Sono quarto No Volevo schiacciare Yoshi Non ci sono uscito per poco Sono in terza Manca poco alla fine Di questa gara No Yoshi Mi vuole superare Ah va Porco cane Non guscio Non era per me Che gioco bagato Che gioco demente Mi hanno fatto Prendere un guscio Che non era neanche per me Ma dai Ma quanto si puoi Oh E' già la terza volta Che non prendo power up Guarda Cocane Ma che palle Veramente Ma perché Zuggere tutto questo Sembra l'ultimo giro Ottavo posizione Yoshi Lo stanno praticamente Massacrando In questa gara Togliti dalle scatole Yoshi Sono Ottavo Ok vai Ottimo Ottimo Per poco Settimo pure Che palle No Cristian Davanti di me Secondo È a 190 Sì Ma Dai Cristian Ambientivamente Si è trovato Una partita in più Quindi Ok Va bene Filipis Non è animalista No Di strangolerò Tutti Praticamente Questi qua Sono Contro Tutti Quelli che mi buttano i gusci addosso Che fanno l'elettromarcia Si fermano apposta E poi Ridono pure Giustamente Divertente Prendermi acqua Bastonata Giustamente Allora Allora Avete 17 Partecipanti Mi raccomando Ragazzi Non vi fate sfuggire Like Che è assolutamente Gratis Mi raccomando Ragazzi Io conto su di voi Leave a like Assolutamente Se state seguendo Se state seguendo da qualche Altra nazionalità Mondiale 90% Sicuramente Sono in Italia Ovviamente Ormai Io sono arrivato Secondo No 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 Togitelo dalla testa Togitelo dalla testa Perché ci sono solo Quanti punti di svantaggio Tra me e te 190 contro 183 Ah dai Ci sono solo Sette punti di distacco E ti autoprocrami Arriverò a prima ora Si spera Ultima gara No 23esima gara per me 3 2 1 Via Siamo partiti Dai Almeno dobbiamo arrivare Davanti Cristia Assolutamente Curva fatta perfettamente Curva fatta magnificamente Veniamo Mashomen Si è portato lui Vabbè Yoshi Dai ma che connessione hai Porca miseria Ma non è una connessione questa È un gol a brodo Quello che è tu Cioè come fai a guadagnare 2 Ti prego Non mi prende Guarda come mi gira Guarda come mi gira Oh Yoshi colpito Colpito ma non è vero Colpito ma non è vero Il busto non me lo dà Ruota e ruota Con Yoshi Che ha praticamente una connessione Che fa ridere Alle galline L'ho colpito E ancora in davanti di me Porca miseria Yoshi Ti sto detestando Veramente Yoshi Ora È il momento di farti superare Oh È stato colpito Grazie a tutti i dei Cristian in davanti di me Ha rallentato Per me Ha visto il busceroso Ma che cacchia avete Una mira dei cecchini Porco cane Non è possibile Ma è neanche i cecchini Scenti della serie Ci torna una mira Così performa Eh sì Pure power up Mangato Fantastico Guarda come me li butta Adosso Guarda come li sparta In faccia Cristian Sono sesto Non so neanche io come Ma sta succedendo Un casino davanti di me Stanno morendo tutti Praticamente Come le mo Ancora Power up perso Ma porca miseria Ma tutti i power up Sto perdendo Dai Almeno mi sto andando bene Sono terzo Non so neanche io come Sono quinto Con due power up persi Ma veramente posso Per andare all'urdo Dopo questo Quinta posizione Eh dai Ma che demente Che demente Ma che paura Un funghetto Ma non è possibile Fammi almeno prendere Scrocettoia Ok bene Presa bene Scrocettoia Questa volta il power up L'ho preso Ancora un altro funghetto Più cretino No Non mi ero accorto Aiuto Ti prego Fammi arrivare Fammi arrivare Nel podio Non chiedo nient'altro A questo gioco cretino Fammi arrivare nel podio Lo so che si può fare Ma devo Devo vomitare il sangue Guarda Mi ha tolto il fungo Mi ha tolto il fungo Mi ha tolto il fungo Sono a quinto Non posso arrivare nel podio Mi sa vero Quarto Dai Quarta posizione Non male Non male Non male Non male E non male Cristian è arrivato Sesto Ottimo E Simon Ok Simon è arrivato dietro Perfetto La seconda posizione Molto vicina Io ho scelto la ride Siamo andrati nel ferro Ve l'aspettate Io ci traccio Staccate Stacca Stacca Vabbè dai Manca L'ultima gara Di sgolamento Credo Che manca una gara Ci sono Quanti punti di distacco Sono 5 punti di distacco Nel fronte di Cristian Assolutamente Fattibile Secondo posto Ma devo arrivare Davanti di Cristian Giustamente Io ho salvato Il guscio blu Due volte Quei tre gusci rossi Maledetti Incredibilmente Incredibile Esatto 21 like Ragazzi Facciamo qualcosa Per aumentare questi like Anche a te lo dico P59 Provaci di nuovo Tanto Lo so che non succede niente Pokémon C'è da un ride Formaggio E formaggio Sia Dai Formaggio Maledetto Concentrazione Ultima gara Ci sono 92 94 5 punti di svantaggio Nei confronti di Cristian Non è affatto Impattibile Non è impossibile 21 Vengono Emilia Romagna Operazione Non Cristian Infatti Qua siamo in Romagna La siamo a Bologna Buona partenza Se riesco a vincere la gara Molto meglio Assolutamente Devo vincere Terza posizione Operazione non Cristian Partita Come l'operazione Praticamente Valchiria La seconda guerra mondiale Sì Va bene Va bene Ma che cacchio di lag Nick È entrato Con tutto il suo odio Ma la cibattuta in pace Praticamente Mianda maledetta No Ma guarda La gara della Miloschi Gira Gira Non gira Mangolo Mangolo Motto G Manana evitata Per il miracolo Del messia Guarda L'unica cosa Porco cane E basta Va bene Ok Ho capito Che l'operazione Valkyrie È per me Non è per Cristian Palottolo Bill Grazie 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 Vediamo Dove mi fa Arrivare Ottavo Guarda Quanto tempo Abbiamo perso Ora si ferma la curva Vero No L'affanculo Ma guarda Quanto tempo Prendiamo la scorciatore Dai Prendiamo la scorciatore I miserabili Guardate Quando sto guadagnando Terza posizione Incredibile Davvero Siamo terzi Siamo terzi Ho guadagnato Un puntifene Di posizioni Non so neanche io Come Togliti Besti Immonda Forca misera Simon Che ci sta provando Con tutto il sangue Vediamo anche questo Scrocciatore Scrocciatoietta E ci portiamo In quarta posizione Con un giro alla fine Yoshi scivolato Simon Besti è primo Simon è secondo Tutto può ancora succedere Seconda posizione Vengo un giro alla fine Se vengo la gara Sono secondo Proprio definitivo Cioè Guscio blu Che per me Vabbè E che palle L'avete fatto apposta Questo guscio Terza posizione Non mi colpite Con boomerang Ti prego Guarda Quello sta andando a caccia di me Quello sta andando a caccia di me C'è poco da fare Ok Sono quarto Bene Yoshi lo stanno Tempestando di gusci Lo stanno distruggendo No 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 Ho perso tutto Settima posizione Christian è arrivato Dove è arrivato Christian? Ah Era arrivato anche dietro di me Peccato veramente Addirittura Armi È arrivato In secondo No Sono arrivato quarto Ah ma dai Sono arrivato quarto Non ci credo neanche io No Mimino Bellino Sono arrivato Ah sono arrivato te Attenzione 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 Christian Declassato di tre punti Ha commesso un'infrazione nel regolamento E Christian quindi Gli hanno tolto praticamente Quattro punti Eh No Tre Quattro punti Ed è arrivato quarto In posizione mondiale Bene 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 Filippi è arrivato terzo Almeno ce l'ha fatto arrivare terzo Armi Incredibilmente è arrivato a seconda E la vittoria ovviamente È per Yoshi Italia Primo A 249 punti Christian Ovviamente Punito Punito A morte È arrivato un quarto Bene 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 Gli hanno tolto i punti E ne ha consentito il superalo Però purtroppo Armi è arrivato a seconda Quindi classifica finale Leggiamo Viglietti hanno vinto 998 con 267 Ottimo Veramente Fantastico Yoshi Italia è vincitore Armi è arrivata a seconda 201 punti Filippi è 73 Terzo A 198 Christian Quattro A 197 Quinto Simon A 196 Tutti in un fazzoletto di terreno In gradino è davvero In due punti ci sono tre piloti Sesto Tanokino A 181 Settimo Mash A 145 Ottavo Donald Q A 110 Nono Luke A 107 Decimo Monixan A 87 In bar con dice Con denio 88 games 12esimo Roy K A 26 punti 13esimo Do Giusi A 19 punti 14esimo Nika Appena andato E poi Tata Teta Tete Va bene 15esimo A 6 punti Mi ha fatto una gara E poi sparito Ok Assolutamente Battaglia Vi lascio Il codice In sovrimpressione 2484 2690 3083 Potete vedere Ve lo lascio per qualche secondo Ragazzi Così Potete iscrivermi A 9000 Dei vigliacchi E la pace Mentre Impristinata Infatti E ritorno la pace Nella vallata Dei vigliacchi Un bel finale Finale giusto Finale ovviamente Che ci sta Assolutamente Allora 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 Io mi lascio il codice Per qualche secondo Ditemi quando siete pronti Iniziamo il torneo Eccolo qua Il codice Leggettolo bene 2484 2690 3086 Codice della battaglia 8 battaglie Dopodiché Chi sono la live streaming Tipo come facete in Vulius La guerra è finita Esatto La guerra dei Demendi è finita Finale rubato No Ma no No Anche io Ho avuto un problema Di connessione Quindi Esattamente giusto Come doveva essere Carissimo Marco Sarti Esattamente E Marco Cristian Phil Juventus Sì sì Anche a me Mi hanno rubato una gara Cristian Cosa vuoi Siamo esattamente Una gara rubata a testa Ed è finita Con un numero di gare Equo Diciamo Hai fatto 23 gare Tu doveva essere Quasi Quasi gli stessi punti Un punto in più Io Bellissimo Con il palottolo bill Soprattutto Phil Mi sono appena accorto Di una cosa Sono stato Per tutta la live Non succede È incredibile È vero Carissimo Amici Un momento Ti voglio fare una domanda È per caso Ho provato il giochettino Che sappiamo io e te Dimmelo Dimmelo Perché sarei curioso Di sapere se tu hai provato A metterne tanti Di quei pollicioni in su Ok Iniziamo Partecipiamo al torneo A questo punto Mi dato il tempo Di leggere il codice Anche troppo Secondo me Partecipa al torneo Di Philips 23 youtube Sì Vuoi vedere Voi Volevi dire come un riccio Sto codendo Ah è un porco Vabbè Sì Me ne sono entri La gara orta Vabbè Sì ma no Ma se non entri La gara Ah ok La gara parte Va bene Ok Va bene Entriamo Avete già iniziato Ma siete miserabili Veramente Siete vergognosi Volevo dire come un riccio Però Ora La faccio Ok Vabbè Ci prova Allora Vento uno sono senza di te Wow Fantastico Ti do un consiglio Carissimo Bicci9 Prima di farlo Disconnettiti dal wifi E tipo Fallo con la rete tua Del telefono Così magari cerchiamo di fregarlo Questo sistema Dai cerchiamo di Ti fotterlo Diciamo In un modo o nell'altro Allora Maledetti che sono entrati Senza il permesso Vabbè Ma Mascio egoista Che giunga da solo Se infatti Mascio si sta divertendo da solo Come un Xan Sapendo di vincere Giustamente Conclusione Philips 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 Cornut E Christian Quarton Però bello Uno dei più bei tornei Secondo me A parte Yoshi che ha stravinto Ok Però Secondo me Poi si è stato Compattuto Fino alla fine E' bello E' stato veramente Un bel torneo Mi è piaciuto Sono arrivato Terzo Ma l'importante E' essere arrivato Davanti Christian Veramente E' questo Quello che importa a me Non lo so Hai messo un alce Che cacchio era Hai messo un alce L'alce è cornuta Quindi non lo so Monixan Terzo Secondo Ma dove è finito Mascio Mascio è secondo Dai Sta facendo battere Pure da Monixan Che disagio Mascio man Vabbè Comunque Mascio man Parte con una gara Di vantaggio Giustamente Vabbè Neanche Neanche con Cosa riesce a vincere Sacro del cervo Ah Ditemi Il significato Il sacro Significato del cervo Non lo so neanche io Il significato Il sacro Significato Vabbè E' uguale Marco Sattica In tutta Finis E Christian Che arriva a quarto Soprattutto Lo metteremo tipo Christian Arriva a quarto Questo sarà il titolo Di giornata Tipo che metterò Nello screenshot Della cosa Christian Anima a quarto E Christian Che piange sangue Forse Spero Che piangerà sangue Alci uguale O meno Con gli occhiali Da sole Vabbè Significa Corronte Scarso Vabbè Grazie Dei complimenti Allora Christian Cosa mettiamo Tipo Riccio Riccio Assassinato Oppure Potremmo mettere Gallina Gallina Col collo Strangolato Gallina Tipo col collo Spiegato Christian Gallina Col collo Piegato Che è ancora Peggio Ah Non è vero Ah Significa Figo Ok Grazie Allora Nella Cosa Si Nella battaglia Si Primo Eh Monixan Ha vinto Festa nazionale In piazza Tutti I napoletani Che sono scesi A sparare Fuochi D'artificio In bocca al lupo Ok In bocca al lupo A tutti Dai Il codice E Pali Dieci minuti Ah Ma Avevo detto Ragazzi Di aspettarmi Però Dai Tutti Borgovù Che ce ne fosse Stato uno Che abbia Scelto Una pista Diverse Monix Mascio Donald Q Philips Armi Zoe E Zoe Christian E Nick Dove l'ho vista Zoe C'è il lupo C'è Vabbè Dai Durano poco Queste gare Sfuggite Alla legge Ok Siamo i banditi Dobbiamo scappare Nick Ma siamo solo Tre maledetti E siamo tre Tre maledetti E tre vigliaghi Siamo Siamo questi Niente Pazienza Tutti Tutti Se ne scappano Perché odiono le battaglie A me No Oye Cristian Cosa vuoi Della mia vita Fatene via Maledetto Tembestato Di piante assassine Ancora quattro Devo aprire una gabbia Giusto Guardalo Guardalo Tipo timido Guardalo Fammi aprire una gabbia Gabbia aperta Fantastico Ottimo L'ho liberato io Sono il vostro salvatore Inginocchiatevi in ginocchio A me Perché io vi ho salvato Ho salvato le vostre famiglie Ho salvato le vostre vite Ho salvato i vostri figli Che erano intrappolati nella gabbia Ecco No Cristian mi ha preso Mi prego liberatemi C'è il lupo crepi Liberatemi No 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 Stanno morendo tutti Mi prego liberatemi Non voglio restare qui Voglio vincerlo prima gara Oh grazie No È rimasto ingastrato Maledetto No No Guardalo Guardalo È bastato di odio No Tipo timido Ma Nassanti numi Ma perché Cioè Tutti in un secondo Mi hanno preso Che fai Liberati a coppia Tutti di voi Ma dai Che palle però Vittoria facile Sì vittore Dai mezza facile 36 likes Allora Ringraziamo Bc19game Per il suo intervento Speriamo che youtube Non me li tolga di nuovo Perché sennò Vi giuro che andrò A prendere a youtube Con un asce Tipo come shining Ok È stata la gara più veloce Del west Veramente Non ho mai visto Una gara più veloce Di questa Partita la conta Eh l'ho visti Grandissimi 519 Grazie Speriamo tanto Che youtube Non li tolga Perché sono veramente Vado dietro Alla ceo Della Della ceo Di youtube Con l'asce Tipo Sash Shining E io la butto a terra Player Welcome C'è una player frangese Welcome in this Live streaming And have fun Come on Leave me a like Assolutamente Thank you very much For following my streaming Thank you very much For liking my video And thank you very much For subbing my channel Carissima player Ottima vitamina B12 Gamer Ok Coppi i pallongini Non me li scoppiate in bacio Però vi prego Ve ne prego Sono nella Cosa caramellosa Va bene Cristian Vieni qua I miei occhi sono diventati Subito Mascio Che mi ha colpito No M'ha detto M'ha detto Basta Basta Dai Che pale Si è messo praticamente Come un zeguccio Io sto andando la vittoria A mascio Praticamente Ho preso le sue due banane Che palle Dai che ho i guscetti verdi Dai che ho i guscetti Com'è che mi prendono Pure Pure all'improvviso Questo No Nick Maledetto è scappato È scappato via Come la peste Nick Vieni qua Guarda Quanti guscetti verdi Sono per te Sono tutti per te Vieni qua Hanno tutto il tuo nome Scritto sopra Nick Vieni qua Non scappa Sta scappando Scappa come un'anguilla Nick Prendilo Oh Colpito Nick Uno su tre L'ho colpito Uno su tre Ce l'ha fatta Tipo timido Benissimo Andiamo Un balloncino Mi è rimasto Che c'è dietro di me Ok Stiamo vingendo Wow Stiamo vingendo un tipo Dai Forco cane Marco Santi Perché mi hai messo in da moto Il grandissimo benefattore B-52 B-52 Oppure io sto falando B- Guarda B-1-9 Gamer Ehm Come basta Ma quante volte mi prendete È una frustrazione Tipo timido Almeno l'idiota Tipo timido E basta Palle Non mi avete fatto Nengri spilare Mi avete asfissiato In questo Trange di gara Trange Invelenato Ok Vapete Vola con la Guarda 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 Cucane Dov'è? Ok Ma perché Armin mi stava attaccando Armin Ma se come Cristian Maledetto Maledetto I miei occhi stanno Che mi ha colpito lo stesso Che mi ha colpito lo stesso Incredibile Cristian Nel culo Oh Ma come sta Come fa Come caccia Forca miseria E dai Che cavo Avevo le fiamme La mia squadra ovviamente sta pareggiando Ma non grazie a me Non grazie a me Perché mi sono colpito Anche quando sono Cristian È sotto la montagna di cioccolato Ma perché Ring 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 maledetto Ring E basta Non è possibile Oh Qualcuno L'ho preso Stiamo strappertendo Ma che Schifo Veramente Ma io dico Ma vi divertite Vi divertite Vi divertite a distruggermi la vita È possibile che prendo solo i miei compagni Ma Che padre Chi è ma Wario Ok Wario che è scappato via No Oh ne ho presi tre Non sono anch'io Come 15 pari Stiamo vincendo Stiamo vincendo Attenzione si dice bene Non vogliamo finire Sì 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 Vittoria Ce l'abbiamo fatta Minaco Incredibile Vivero Vittoria della gara Dei vigliacchi Grande Grande Veramente Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Abbracciamoci tutti Vigliacchi Che non siete altro Poi ci accolteremo Nel frattempo Abbracciamoci tutti Vigliacchi Perché abbiamo vinto Questa gara meravigliosa Siamo tutti Fratelli Vigliacchi D'Italia Non ci credo L'ultimo secondo Sarti Non credo che Bip Trovi questa cosa Divertente Infatti Marco Sarti Sei veramente Un essere Assassino Non lo farei mai più Non bannare mai più Bicino a 9 game Se no avrò la casa tua Te lo giuro Ti butterò la parte a terra E ti prenderò Colpi di Bip In camina 12 In faccia Prendi i provvedimenti Guarda Cosa ha fatto Marco Sarti Sì Non ti preoccupare Prenderò i provvedimenti Metti Metti Di Fili Scarsone Mi prendo Io carissimo Marco Sarti Ah Marco Sarti Marco Sarti Tu mi farai impazzire Un giorno di questi Veramente Farai diventare pazzo 300 secondi di te No Dai poi ti tornerai Spero Più calmo Di prima Lo spero veramente Lo spero con tutto il cuore Che gara è Qua? Ah il sole Stavo girando a bamfera Stavo girando Come un idiota Sole Sole maledetto Nick ha rubato il sole Ok Nick ha rubato Dove sto andando? Dov'è il sole? Porca miseria Non vedono neanche il sole Comunque è entrato qualcuno Nella live Ma non mi sono accorto chi Bene Oh sì sì No No Ok Monixan Portaci alla vittoria Monix Crederemo il tuo nome Se ci porterai alla vittoria Dai carissimo Niente L'ha perso subito Neanche il tempo Neanche il tempo di dire il suo nome Adesso il sole di Tipo timidi Idiota Pure i boot mi attaccano Non è possibile Tutto mi sta attaccando qui Chi cacchio ha il sole? Altronde sono andando All'altra parte Pressione Non c'è da niente Bomba maledetta Bomba maledetta E qui E qui E qui E qui Penso che passerà qua Dai Appena lo vedrò Non sa che non ci passerà mai qua Fatti Niente Non fatelo vingere Fermatelo Dai Stai facendo vingere la gara A quei maledetti Portaci tu Portaci tu la vittoria E non mi preoccupite Portaci tu la vittoria Facci vincere Dai Donald Q Stai andando alla grande Stai andando alla grande Siamo a 20 secondi Siamo a 19 secondi Donald Portaci alla vittoria Donald Siamo tutti con te Siamo tutti vigliacchi con te Tutti fratelli vigliacchi uniti Per una vittoria importantissima Per questo torneo Ci potrà costruire di andare in testa Nelle battaglie Cosa che non era mai E ripeto mai successo Donald 10 secondi Donald 9 secondi Ce la sta facendo Sta riuscendo a portare a casa Un risultato importantissimo Mancano 6 secondi Ce la sta facendo 5 secondi per Donald 4 3 2 1 No L'ultimo No Non è possibile Abbiamo perso Per un secondo Per un misero secondo Non ce l'abbiamo fatta Mancava poco Eravamo vicini in così L'avevamo sfiorato Praticamente l'obiettivo B5 Una nuova Mi è tornato Mamma mia Rubbata l'ultimo secondo Non è vero Mi sono spiegato male Questa è la nostra vendetta Vendetta Maledetti 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 Veramente Ingiusta Vendetta 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 di sangue Mi sono spiegato Ma di come Come ti sei spiegato male Non ho capito Prendi i provvedimenti Ok Questa non ho capito Perché ti sei spiegato male Cosa avevi detto È l'esatto opposto Prendi i provvedimenti Vabbè Sono l'unico Abbastanza Espresabile Da conoscere Quando si esagera Beh effettivamente Mashomen All'esagerometro Pondata addosso MK8 French Beh welcome Michael Welcome 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 to the streaming Thank you very much for following my streaming Thank you very much for subbing my channel For leaving me a like Del tuo sito Aiuto Vabbè Fa piacere che Mashomen Mi dia qualche dritta Ma anche perché Ti ripeto Io non riesco a leggere Tutti i messaggi Se sono talmente tanti Che non riesco a leggere Quindi se Mashomen Mi dice Che quello sta esagerando Io vado a vedere Verifico Che sta esagerando E Prendo i provvedimenti Mi sembra giusto Perché io Guarda Non mi raccordo Del messaggio Birichino Di Marco Sarti Ecco perché Mi serve una guida Come Diciamo Spirituale Come Mashomen Che Me ne fa rendere conto Diciamo Perché a me Mi era sfuggito Completamente Il messaggio di Marco Sarti Però Se che c'è Mashomen Ho bisogno De suo aiuto Subbettiamo Dai Cristian Muori Mamango per scherzo Sto girando Come Un idiota Armi 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 Con me Ho colpito Il frangese Ok Il frangese Ricolpisco Ma gli italiani No Qualcosa non Guarda Qualcosa Non guarda Assolutamente Donal Cui con me Non posso Sfiorarlo Non posso Perdona Qui ci stava portando La vittoria Guardalo Ho colpito Cristian Non ci credo Mi sento Mimicolato Il messaggio Guarda Che Che Aiuto Bombe L'apertutto Che No Cristian Ci ha vendicato Neanche il tempo Neanche il tempo Mi ha Sì Non sono Cretino E dai Masho Maledetto Te E tutta la famiglia Dei Mashi Mash Ok Ho colpito Nessuno Non colpita Nessuno E dai Masho Mi stai facendo La barba Però Ora si Che mi stai Scassando Di zebedei Ma ho colpito Due o tre volte Mi sembra Sei Bene Ma sei Chi c'è Stanno esplodendo Il mecappotto Lo prendiamo Sì ma In un altro Un altro mondo In un'altra Epoca storica Non adesso Che cacchio Non c'è Non c'è Nessuno In questa zona E cristian Tempestato Tempestato L'ho preso Ma neanche Sferata Non l'ho detto Ma sembra Che mi frega Porca miseria Mi frega Sempre Essere in mondo Ancora No ma stiamo Strappertendo Dai ma che è Sto schifo Che cos'è Tu 26 a 7 Dai Che è successo Vi siete venuti tutti Al comunismo Che è sta cosa I rossi sono I comunisti Noi siamo Quindi Ho colpito Nicky Wow Ho colpito Nicky Mi sento Un pochettino Più soddisfatto Tipo di Ota Cosa Cosa Mi rimane A fare Link Link è maledetto Link è tempestato Link Adesso Pure i boot Mi colpiscono Io sto lanciando Il gioco all'aria Ve lo giuro Non è possibile Guarda Michael Michael Schumacher Ci ha provato Tipo di Ota Le bombe di saltano Va bene Io No Monix Ok Monix Ho visto Un Cristian E tutti i miei occhi Sono diventati Lampeggianti No Dai Non mi importa Abbiamo Straperso Possiamo andare Nascondici sotto Un zazzo Sono un moderatore Apposta per aiutare Philips Posso diventare Anche io Moderatore Vediamo Dai Potrei anche farlo Diventare moderatore Volendo Ce ne vorrebbe un altro Vero Non è una cattiva idea No Nick se ne va Mi dispiace Carissimo Nick Ci vediamo alla prossima Allora Ci vediamo alla prossima E Vittoria facile Vabbè Vittoria facile Vero Dovei trovare Un terzo moderatore Effettivamente Uno che sia Se io Sinceramente Anzi un quarto No Sono 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 tre I moderatori Però Ne farò un quarto Dai Ballottaggio è tra Christian e Bc1 a 9 gamer A questo punto Chi 3-2 Che vingerà il ballottaggio Diventerà il Moderatore Moderatore Della vergogna Ma comunque Siamo alla quinta gara Meno male Grazie a Dio Stiamo finendo questo Brobrio Questo schifo Questo schifo Ciao carissimo Nick Ci vediamo alla prossima 3-2-1 Metti B Ok dai Hai ragione Solo mate Solo mate Assolutamente Solo mate Hai ragione Hai ragione Bene Christian praticamente L'ha lasciato L'ingarico E Bc1 a 9 Grazie ovviamente Sui interventi Magnifici Che lo ringrazio Ovviamente Per i suoi interventi Fantastici Diventa il quarto Moderatore di questo Canale Sperandosi adesso Un pochettino Migliorerà la situazione Diciamo Colloquiale Di questo canale Perché non voglio Che diventa uno zoo Una giungla Di offese Che vuole a destra e sinistra Bc1 a 9 Intervista A Bc1 a 9 Come si sente Dopo questa incredibile Conquista Ho ottenuto la moderazione Come si sente Carissimo Bc1 a 9 Vogliamo Un'intervista speciale A questo punto Uno speciale Bc1 a 9 Di un'ora Dove parlerà Della sua Sensazione Delle sue emozioni Di cosa ne pensa Veramente Di cosa Di quale progetto Ha per il futuro Di come migliorare Questo canale Disastrato E demolito Cosa ne pensa Bc1 a 9 Siamo tutti orecchie E soprattutto Tutti Oh Ne ho ucciso Uno Forse Devo prendere Le monete Philips Porca miseria Svegliati Oh ma sono Un demente Stavo girando Ne ho preso Ne ho preso Due Vabbè Lasciamo perdere Sono un demente Di prima Categoria Sei monete Wow 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 Stavo andando bene Non vedo neanche io come Ma sono arrivato a sei monete Me ne accorgo Siamo in ritardo Yeee Ecco il suo festeggiamento L'intervista Di Bc1 a 9 Gamer Di un'ora L'ha trovata Su sito www.bc1 a 9 Sordo Punto it E lì potrete vedere Tutti Praticamente Le sensazioni Motive Di Bc1 a 9 Chiamato anche Vitamina B12 Gamer Beh Guardate Le stranunzate Che dico Ma guardate Nessuno mi sta Tormentato Incredibile Mi sento Mi sento bene Mi sento bene Con me stesso Mi sento bene Con il mondo Che mi circonda Sono Incredibile A 8 monete Wow Non mi è mai andata così Russo 10 monete Wow Nessuno mi ha sfiorato Incredibile Ma vero Nessuno mi ha mai toccato Nessuno mi ha mai Tipo detto Ti colpisco Non ci credo Mi sta sembrando veramente Una cosa assurda Mi sta sembrando un sogno Che sta realizzando Una gara senza che nessuno Mi sta rompendo In Zebedei Mangano solo 30 secondi Vi prego Fatemelo finire così Ma aiuto Ci hanno provato Fatemi avere Questo bel ricordo Di questa gara Ci hanno provato Maledetti Appena mi hanno No Mi hanno colpito Proprio alla fine Vabbè ma un colpo ci sta Dai Stella Stellazza Non mi potranno colpire più Dai 9 9 monete 13 monete Wow Fantastico Veramente Ma abbiamo perso Mi ho perso Ma mi è andata L'uso 13 monete Sono veramente Un casino Potevo prenderne di più Però vabbè Oh Fantastico Vemente Marco Sarti Purtroppo se n'è andato Mi dispiace Spero che ritorno Spero che ritorno Spero che ritornerà presto Marco Sarti Noi ti amiamo Ovviamente Prof è il bravo Non offendere a nessuno È stata una È stata una delle gare più Cristian Basta colpire a nessuno Ok lo leggiamo di nuovo Firma B59 Lo mettiamo Questo tipo All'asta Come poesia Come intervista ufficiale Scusa Monix Ma Cristian lo fa apposto Ultime Tra le gare con questo Incluso Poi non vedo l'ora di chiudere Non vedo l'ora di chiudere Non vedo l'ora di chiudere Questa live Perché È andata bene Obiettivamente Però Ce la faccio più 3 2 1 Via Partiti Partita buona Buona partenza E Manteniamo Cosa Ah Ma noi siamo le guardie Vabbè 3 ore prima di capirlo Questa secondo me È una delle piste peggiori Per fare le guardie Perché qua ci sono 300 posti diversi Per scappare Che palle Ognuno Dai Cristian Ti ho messo di sangue No Guarda come mi è scappato davanti Mi è praticamente Scappato sotto le gambe Sfuggito Mi sembra qui No Cristian ha aperto la gabbia Aiuto Aiuto No Questa non la vinceremo mai Non la vinceremo mai Semplicemente perché Questa è una Una pista stupida È troppo complicata È troppo ambia Difficile 2 2 Ne mancano 2 Dai Ne mancano 2 L'abbiamo quasi fatta Si ha aperto la gabbia Vabbè L'avevo detto Ne mancavano 2 Ne mancavano 3 Va bene Non è infattibile la vittoria Catturateli Marsha ha aperto la gabbia Ma vattene via Marsha Marsha No Marsha man Devo spaccarti la faccia Vieni qua Ho preso Marsha man Catturato con la foglia Argonistica Inchiuso con la forza Nella prigione di Ashkaban La più terribile La prigione Divende preseduta Dai Di senatori Un po' di riposte Ci vuole Allentando Di nuovo Aperta la gabbia E dai Che palla Ogni volta Sempre così Va a finire C'era un funghietto Non l'ho preso per poco Per pochissimo Ma ci avrei fatto il brodo Perché nella fine Non è che si può fare tanto Questi funghietti qua Donna Q Tipo timido Tipo 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 Maledetto Che mi ha colpito Puribut Ormai Ormai Praticamente Certo Puribut Tipo timido Che apre la gabbia Tipo timido Praticamente Mi ha colpito No Mi ha colpito Un minuto Alla fine Di questo scembio Ma lasciamo perdere Donovan Sembra schifo 3 Ok Dai Dai Non coltemo Subito Li recuperano Vole dell'angelo Vole del capriolo Va bene Dai Dai Aiuto 30 secondi Ovviamente Mai Anche se tutti Si fermano E si mettono Tipo Tanti A me Che posso Prendere Ancora 4 Tipo timido Ho aperto la gabbia Io quasi Lascio stare Gioi Come che Tanno inutile Sperare di vincere Pio 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 Brucio 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 Ma chi stiamo Ah Che cacchio Stiamo bruciando Vabbè Niente Ah Giusto Grazie Marco Cristian B Non mi ringrazio Ringraziamo anche A Cristian E non ridere Non ridere Non ridere Ma Cristian Perché se no Monix ti viene a prendere a colpi di gioco in testa Hanno vinto Ma intanto 10 secondi Dalla fine Ci ho pure perso le speranze Masciomine è bravo nelle battaglie De quello che sto capendo È molto bravo Perché riesce a Prima Nella clasifica mondiale E riesce a fare delle ottime prestazioni Ottimo Bravo Mascio Bravo Mascio Bene Vangono ultimi due gare E finalmente Finalmente Possiamo chiudere questo tormento di live streaming È stata bella Sì assolutamente È stata bellissima Ma basta Non ne posso più Sono stanco Sono stango E depresso No depresso Non sono stango E basta E depresso Non sono depresso Ma quella si spende Aspetta C'è l'altra live che si spende da sola Sì Forse Forse Non ci sto capendo più niente Ok Volevo fare moderatore a Cristian Credo di essere un idiota Mi prende in giro in continuazione Quella bestia in mondo La bestiolina in mondo Allora Allora Tipo Timino No baby Luigi No baby Luigi Vabbè adesso Lo prendo Lo prendo di qua Baby Luigi Dai È sparito È sparito Dai Era qui baby Luigi È sparito praticamente Si è nascosto sotto le doghe di sua madre Desi Niente Non colpisca nessuno Non riesco a colpire nessuno Neanche Ho colpito baby Luigi Ho fatto a colpire baby Luigi Vabbè come Ho colpito Musk Bene Vito Mashomen Mk8 colpita Assassino Qualcuno mi ha colpito Ovvio C'è un Cristian che mi sta seguendo Con la sua rmoscia Starmi lontano Ti prego Non prendermi Desi Che cosa sta succedendo Casino per diventare No lo sapevo Armi mi ha colpito Armi Armi Che disagi Tre Tre cose colpite Vabbè siamo messi Mk8 No Masho Niente Nessuno Non lo so colpito Nessuno Tutti che mi passano domandi E tutti Sopra il cornicione Dai Sto qua Dai Controllo la situazione Controllo chi posso uccidere Con dei power up Che è impossibile uccidere qualcuno Fiorino Fioradoso Ok Ho ostacolato Armi Bene Ehm No 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 Mi ha colpito il mio stesso Compagno Dai Io mi metto nel cornicione Perché ho capito Che è una situazione Abbastanza triste Scherza E dai Prendetemi Guarda Resto qua Resto qua Non mi muovo Stiamo pure vincendo Perché mi devo muovere No No Ma chi mi ha colpito Qualcuno che mi ha cercato apposta Stiamo vincendo Dai Portiamola a casa Vi prego Mancano poco Cristian 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 Non ho detto Non ho detto Dove sei Vieni qua Guarda Non riesco a prenderlo Non riesco a Non è possibile I passano attorno Le fiamme Ma abbiamo vinto lo stesso Alla faccia di Cristian No Mario Kart Live No Che bello c'è Il Mario Kart Giocare a casa Con i modellini Penso proprio Io no Yoshi Forse Sì È fighissimo Beh sì Non è male però Mi sembra un po' Stattico Secondo me Va bene Ma ha showmessi In andato Perché ricordiamo Ha giocato una gara in più E quindi Adesso devo giocare L'ultima gara Non ho spazio Ah Prima di me Tutta la memoria piena Filippi Sì ti ho visto Camperone Sono il cornicione No Sei stato tu Maledetto Sei stato tu Che mi hai visto Il cornicione Pensavo che nessuno Mi venisse a prendere Invece Lui Ma a showmè Mi ha cercato Mi ha cercato Con il radar Mi ha colpito E poi è andata a casa sua A festeggiare E dire ho colpito A Philips Ah vero Hai chiesto di amicizia Ultima gara Armi Ma ok L'avevo già accettato però Armi Italia Bene Mi sembrava di averla già accettata Però vabbè L'aria accettiamo di nuovo Nel dubbio ragazzi Non mi rimandate Le amicizie Dopo averle Disaccettate Dopo averle eliminate Perché Mi secca fare le macette Le accette Vabbè Siamo rimasti in quattro Io giustamente sono Quello messo peggio Mi sono autocolpito Lui mi ha visto Ma la chi è che mi ha colpito Ultima gara E finirà questo tormento Va bene Poi leggeremo La classifica finale Aspettate Guarda Stiamo vincendo 2 a 0 Già Ottimo Mi sa che i vigliacchi Si stanno difendendo tantissimo Ovviamente non grazie Perché sono Peggiore dei vigliacchi Ma in ogni caso Vabbè dai Pure dalle banane ferme Mezz'ora Mi faccio prendere Siamo messi Veramente lusso Dai Quando finisce questa gara Non vedo l'ora Di leggere questo tormento Di classifica finale E basta Bene Ok Ok Intanto guarda Non riesco a prendere Non riesco a prendere A nessuno Non riesco a prendere A nessuno E questa è la cosa Che mi dà fastidio Ho preso il mio capotto Ma è in modo Veramente così Strano Che neanche io Non so come Stiamo vincendo Wow Vincendo Vincendo Volo 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 L'angelo Morto Ok Ah Maledetto Già provato Vola Vola No Armi Maledetta Armi assassina Dai che dopo questa gara Finiremo questa live streaming Perché veramente Stavo cominciando a vomitare sangue Ok Io sto facendo il giretto Dei cintiotti Usci rossi che si spaccano Praticamente nel muro Bene Il disagio aumenta Bomba Io ormai lancio le cose a casa Perché non ho più una tecnica Non ho più niente O semplicemente Voglio andarmene via E va Solo il mio capotto Sto facendo colpire Incredibile davvero Agli altri le mancano anche a 2 centimetri Il mio capotto Mi ha dato la mia preda preferita In volontaria Tipo idiota Tipo idiota Tipo cretino Tipo che mi stanno sanguinando gli occhi Oh Tipo tipo mi hanno colpito Dai Siamo a 3 Dov'è? Mi ha dato via Niente Stiamo vincendo Wow 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 Manteniamola Manteniamola Manteniamo questa vittoria 10 a 16 Sì Siamo stramiglione Dai Manga veramente poco Abbiamo Praticamente la vittoria in bugno Abbiamo veramente in bugno Questa vittoria Siamo praticamente No 13 a 11 No abbiamo perso qualcosa Mcappotto abbiamo perso qualcosa Attenzione 30 secondi Solo due punti di vantaggio Sono pochi Sono pochini Sono pochetti Ma No parità Aiuto Siamo in varità Siamo in varità No stiamo in svantaggio Che classico Voglio colpire Mcappotto Voglio colpire Mcappotto Mcappotto colpito Grande E allora sì 12 a 11 Siamo in nuovo in vantaggio 9 secondi 8 secondi Ce la stiamo facendo Ce l'abbiamo fatta 5 No parità Parità no Ti prego No Non vinto Per un punto Mi sputo in un occhio Tutti Però dai Mi è andata bene Questa gara Pfff Pfff Tata di lusso Quando sei fermo Lasci la banana Ah ok I boot Sono più forti Di noi Che vergogna Allora Vediamo chi ha vindo Sei maledetti O vigliacchi O I maledetti Sono più forti Ma i vigliacchi Dai Sono molto vicini Cristina Vindo 56 punti Mascio In virtù Di una gara Giocata prima Ha dovuto saltare L'ultima E è arrivato Solo secondo 53 punti Donald Qua è arrivato Terza a 40 Monix È arrivato Quarto A 32 Bravo Monix Quindi MK8 A 29 Il francese Sesto Philips A 25 Settimo Monica Bendy Decima Armi Italia Ah 10 punti Ottavo Armi 10 punti E nono Michael Che ha fatto una gara E poi Ha capito Che eravamo dei pazzi Ed è scappato via A 0 punti Oh Io vi ringrazio a tutti Per aver partecipato A questa live La prossima sarà Tra 3-4 giorni Probabilmente Sì vabbè Lo farò Non ti preoccupare Cercherò di farlo Questa sera A questo punto Io vi ringrazio a tutti Per questa live streaming Vi ringrazio per aver partecipato E ci vediamo Al prossimo Al live streaming Al prossimo video Mi sa che uscirà Super Mario Bros 2 Nel prossimo video Lo pubblicherò Tra dopo domani E tra 3 giorni Poi ci sarà una live Tra 4 giorni Forse Si spera Ok Una buona serata a tutti A questo punto Vi saluto a tutti Vi ringrazio per aver partecipato E alla prossima live Una buona serata